ci raggiungerà in corso d'opera. Buonasera e grazie di essere qui. La conferenza sarà mista in italiano e in inglese. Avete, lo dico per gli ospiti che sono magari qui per la prima volta, ci sono le cuffiette con la traduzione simultanea, il canale per l'italiano è il 4. Vi ringrazio per chi non mi conosce. Io sono Tiziana Beghina e sono portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Ho il piacere di dare il benvenuto a questa conferenza, sia a chi è presente in sala e sia a chi ci sta seguendo in streaming, perché è ripresa e diffusa su internet. Chi di voi già conosce il Movimento 5 Stelle sa che è un movimento di cittadini ed è fondato dai cittadini per i cittadini. Noi eletti del Movimento 5 Stelle per questo motivo ci facciamo chiamare portavoce, perché crediamo che il primo compito del mandato di chi presta servizio nelle istituzioni sia quello di portare la voce dei cittadini all'interno delle istituzioni. E in questo caso, in questo caso specifico, la voce dei cittadini dovrebbe risuonare molto forte nelle sale del potere, in questo caso appunto per il tema dell'amianto. Fino agli anni Ottanta l'uso dell'amianto era corrente nella coibentazione degli edifici, dei treni e delle navi, ma anche nell'edilizia, sotto forma del materiale tristemente noto in Italia con il nome di Eternit. Dal 1992 la produzione e l'importazione di amianto sono vietate, ma in Italia sono ancora presenti 30 milioni di tonnellate di amianto. Io mi occupo di commercio internazionale, non di tematiche ambientali, e vi posso dire che nonostante il divieto c'è ancora chi lo importa infischiandosene della legge, come dichiarato dal Governo in risposta a un'interrogazione della Camera. Non si tratta di quantità piccole. Circa mille tonnellate sono state importate dall'India, dalla Cina e dagli Stati Uniti tra il 2011 e il 2012. Quindi migliaia di uomini e di donne in Europa hanno imparato nel modo peggiore quanto l'amianto possa essere pericoloso. Ogni anno in Italia muoiono circa 4.000 persone per malattie legate a questo materiale. Io stessa provengo da una provincia, quella di Alessandria, e molte delle persone qui presenti provengono dalla stessa zona, che conta 1.800 morti di tumori direttamente legati all'esposizione a questo materiale. Teniamo in considerazione che un amianto ha una dimensione 1.300 volte inferiore a quella di un capello umano e anche respirarne una sola è rischioso. Questo perché non esiste una soglia minima di rischio sotto la quale la concentrazione non sia pericolosa. L'esposizione all'amianto può causare asbestosi, mesotelioma e carcinoma. È un cancro che infetta l'intera Europa ed è presente ovunque, persino in questi palazzi in cui noi lavoriamo, quelli delle istituzioni europee. Quindi per affrontare questa complessa discussione abbiamo previsto tre panel nella conferenza di oggi, ognuno della durata di circa mezz'ora. Il primo panel tratterà la gravissima situazione dell'amianto in Italia e sarà cura del dottor Rucco, segretario generale dell'Osservatorio nazionale sull'amianto e della mia collega Laura Gea, che faremo intervenire subito in quanto poi dovrà partecipare ad un'altra commissione, ed è portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo in commissione lavoro. Il secondo panel sarà cura del presidente del Comitato del personale di Bruxelles, Lucas Vardin, che ci raggiungerà a breve, e verterà invece sulla questione dell'amianto nei palazzi dell'Unione e sui rischi per il personale dell'Unione europea. Infine il terzo panel a cura del professor Luciano Mutti, direttore della ricerca sul mesotelioma all'Università di Salford in Inghilterra, che verterà sulla ricerca sui tumori legati all'amianto. Lascio quindi adesso la parola prima al collega Laura Gea e poi al dottor Michele Rucco. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Laura Gea, portavoce del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento europeo e membro della commissione occupazione e affari sociali, insieme a Tiziana, che è come me anche lei titolare di questa commissione. E questa è un'occasione per salutarvi prima di tutto, per ringraziarvi di essere qui perché questo dimostra l'importanza e l'interesse di un tema che molto spesso è stato ignorato, a qualsiasi livello sia stato affrontato. E ringrazio soprattutto Tiziana per la sensibilità con la quale ha affrontato questa tematica, portandola anche dentro le istituzioni europee e cercando in tutti i modi di sensibilizzare quante più persone possibile su questa piaga, perché sicuramente poi gli altri esperti saranno più precisi di me nel confermare che l'incidenza ancora dei danni che provocherà l'amianto in chi lo ha inalato non ha ancora raggiunto i picchi maggiori che si stanno verificando adesso e si potranno per ancora molti anni. Io la ringrazio perché mi ha invitato qua a parlare di come in commissione lavoro noi stiamo affrontando questo tema. Con lei abbiamo presentato e anche con l'aiuto del collega Pier Nicola Pedicini che è in commissione Ambiente e con Rosa D'Amato in commissione Regi degli emendamenti sul tema dell'amianto che sono stati inseriti in un documento sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. E' anche con un certo orgoglio che vi parlo di quello che è stato il nostro lavoro perché le indicazioni che abbiamo dato non solo sono state largamente condivise ma soprattutto hanno visto il supporto della quasi totalità del Parlamento europeo. Questo non significa che cambieremo le cose ma significa che comunque cominciamo a sensibilizzare anche le istituzioni su un tema così importante. La commissione lavoro sta sviluppando una particolare sensibilità rispetto a tutto quello che ruota attorno alla sicurezza dei lavoratori. Abbiamo iniziato all'inizio della legislatura parlando dei dispositivi di protezione dei lavoratori della necessità di regolamentare e efficientare sempre di più e sempre meglio non solo gli strumenti che i lavoratori utilizzano come protezione ma anche la corretta informazione e formazione all'utilizzo di questi strumenti. La maggior parte degli incidenti sul lavoro purtroppo e in Italia in questo è un chiaro esempio avviene per la mancanza di consapevolezza avviene perché molto spesso le problematiche della crisi sul tessuto lavorativo vanno a incidere prima di tutto su quelle che sono le spese per la prevenzione del rischio. Molto spesso chi offre lavoro, chi dà lavoro non garantisce la sicurezza ai lavoratori ecco perché c'è una mancanza di consapevolezza ma c'è anche purtroppo molto spesso una mancanza di possibilità di fornire ai propri dipendenti ai propri lavoratori la necessaria protezione rispetto ai rischi e la necessaria formazione. Abbiamo presentato in particolare due emendamenti con uno chiediamo che a dispetto delle politiche dell'austerità che sta portando avanti l'Europa vengano impegnate il maggior numero di risorse possibili per le bonifiche che sono ad oggi ancora necessarie quindi l'Unione Europea deve il Parlamento Europeo ha dato un'indicazione chiara che si proceda a portare a compimento tutta la bonifica dell'amianto presente in Europa. Questo emendamento è stato votato sia in commissione che dalla plenaria di Strasburgo ed è stato approvato e questa era un'indicazione che abbiamo dato io e Tiziana e mi sento anche orgogliosa perché veramente lavorare in questo modo se anche richiede tanto tempo e magari gli effetti li vedremo nel futuro però ci dà la dimensione di quanto il Movimento stia accendendo delle luci importanti su quelli che sono i temi cari al nostro movimento che sono quelli della tutela dei cittadini ad ogni livello. L'altro emendamento che è stato approvato questo è proprio a firma nostra votato e passato in plenaria abbiamo chiesto il risarcimento di tutte le vittime dell'amianto quelle che ancora oggi risentono quelle che oggi si ammalano le famiglie di chi è morto perché hanno il diritto e le persone che nel futuro perché purtroppo nel futuro magari i bambini che hanno respirato l'amianto saranno i nuovi malati fra dieci anni e loro dovranno essere risarciti. E' purtroppo una vittoria che lascia la mano in bocca però è anche un diritto i diritti vanno pretesi e anche questo emendamento è stato incluso nel report. Adesso questo è un inizio abbiamo cofirmato una dichiarazione scritta con altri colleghi qui del Parlamento su una possibile azione che dovrà essere fatta in futuro sull'amianto stiamo cercando di capire se esistono i fondi europei per la bonifica come vengono utilizzati quali quali è l'implementazione e quello che viene fatto perché anche sul come affrontiamo le bonifiche chi fa bonifica quanta dove viene poi smaltito e come viene smaltito l'amianto anche questo necessita di una riflessione estremamente estremamente seria la risoluzione il documento approvato in plenare a Strasburgo due settimane fa è solo l'inizio di certo Tiziana ha aperto la strada ad un confronto ha veramente l'informazione perché quello che stiamo riuscendo a fare ed è veramente un motivo di orgoglio è aprire il riflettore puntare la luce su tematiche che fino adesso sono state ignorate avete visto credo ieri il presidente del consiglio che andava alla prima della scala e c'erano fuori le famiglie delle vittime e non si è neanche fermato non sarà forse la sua la responsabilità delle morti per amianto ma suo deve essere l'impegno a qualunque azione necessaria e possibile per in qualche maniera risarcire e in un certo senso riconoscere un diritto noi in questo senso credo che stiamo veramente affrontando il tema nella maniera più opportuna di certo vi continueremo ad informare e ad aggiornare continuamente su quelli che sono i passaggi che faremo da qui al futuro grazie iniziamo quindi con il dottor buonasera si sente vi porto il saluto dell'osservatorio nazionale amianto e del suo presidente l'avvocato Ezio Bonanni che purtroppo non ha potuto partecipare ai lavori per impegni professionali pregressi personalmente sono lieto di essere qui insieme a voi oggi e ringrazio l'onorevole Tiziana Bechin dell'invito e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa iniziativa un invito che per noi è un motivo di grande orgoglio perché segna il percorso che abbiamo fatto in questi anni con impegno e con tenacia guidati dalla nostra volontà di batterci per la prevenzione primaria per un ambiente pulito per la bonifica dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro in questo intervento cercherò di evidenziare che l'amianto e il suo uso nefasto e criminale rappresentano l'emblema di come il rapporto fra ambiente salute e lavoro sia stato gestito nel modo sbagliato facendo passare in secondo piano il rispetto della vita della dignità della sua dignità e della sua qualità per noi la battaglia contro l'asbesto non è una battaglia di retroguardia volta solo a sanzionare e a schematizzare comportamenti criminali del passato la storia dell'amianto è un caso emblematico un caso di studio da cui apprendere per evitare di trovarci fra pochi anni a fare una nuova conta di morti causati da altre sostanze tossiche presenti e usate fra di noi quotidianamente nella più rigorosa disinformazione in Italia abbiamo contato circa 5.000 decessi e più avanti ve li specifico meglio dovuti 5.000 decessi ogni anno dovuti a patologie asbesto correlate una strage che si ripete anno dopo anno nel silenzio assordante degli organi di informazione in un contesto di mancato riconoscimento dei diritti lo ricordava prima l'oratore che mi ha preceduto e di sostanziale impunità dei diretti responsabili le vittime i familiari e gli esposti sono quasi sempre lasciati soli ad affrontare con la loro sofferenza e le loro difficoltà le conseguenze di quello che per la sua natura non potrà mai essere definito un problema privato tutto ciò è stato possibile in Italia perché noi abbiamo riscontrato e anche la magistratura ovviamente l'esistenza di una lobby da noi definita amiantopoli che ha operato nell'interesse degli industriali dell'amianto incurante dei danni provocati la letalità dell'amianto era nota fin dal tempi di Plino il Vecchio il rischio morbigeno è emerso in maniera incontrovertibile nel 1908 nel congresso di medicina interna tenutesi a Roma in quella occasione Scarpa primario dell'ospedale del Policlinico Generale di Torino constatò che fra 27.000 ammalati di tumori di tubercolosi curati fra il 1894 e il 1906 30 erano dipendenti delle ditte dell'amianto e questi 30 morirono tutti tranne uno nel giro di un anno dalla diagnosi creando un diretto legame fra la dibizione all'amianto e la patologia può andare avanti Fabio grazie la consapevolezza degli effetti delle tali dell'amianto è alla base di questa sentenza che viene proiettata che è una sentenza del 1906 che assolve un giornalista citato in tribunale perché aveva scritto sul suo giornale che in quella fabbrica c'era si lavorava l'amianto e l'amianto faceva male il tribunale assolse sulla base di questa consapevolezza il giornalista e la sentenza fu confermata l'anno successivo dalla Corte di Appello di Torino è interessante rilevare come la storia della giuridica dell'amianto fin dall'inizio comincia con una sentenza sull'informazione e come sin da subito siano state messe in campo azioni per negare ciò che era evidente anche scientificamente e non solo al senso comune fin dall'inizio quindi la disinformazione si caratterizza come cifra importante di tutta la storia dell'amianto e per tanti versi lo è ancora oggi come vedremo analizzando i volumi della produzione dell'importazione dell'amianto in Italia fra il 46 e il 92 anno di entrata in vigore della legge che lo ha vietato l'estrazione e la lavorazione vediamo che crescono esponenzialmente raggiungendo il loro picco negli anni 70 ed 80 arrivando quasi a 250 mila tonnellate il dato successivo confrontando questo dato con l'analogo dato lo stesso periodo della lavorazione dell'amianto negli Stati Uniti d'America si vede come in questo secondo paese la produzione di amianto inizia a decrescere dagli anni 70 in concomitanza con la divulgazione degli studi di Selikov che dimostravano il nesto di casualità tra amianto e mesoterioma vi grazio di tutta questa serie di documenti che sono stati utilizzati anche nel processo Eterriti di Torino in cui vengono dimostrate questi sono documenti che escono dall'archivio di Stato di Torino e appartenevano al consiglio di amministrazione della amiantifera che istraeva l'amianto alla cava di Balangelo sono i resoconti di riunioni nelle quali in questa in particolare c'è scritto se vedete il resoconto del verbale dissociarsi da ogni discussione delle idee del dottor Selikov astenendosi da citarlo quindi proprio un'indicazione ben precisa data ai massimi livelli questa era una riunione tenuta a Düsseldorf quest'altra è una riunione tenuta a Roma presso l'Associamenti nella quale si fa riferimento al famigerato soglia delle 100 fibre litro in cui si dice chiedere di rallentare la questione della normativa sui limiti di esposizione legati alla protezione dei lavoratori quindi proprio era scientificamente cercata questa cosa e la cosa grave è che sono coinvolte anche le istituzioni che avrebbero dovuto proteggere i lavoratori infatti c'è scritto l'Empi ha aderito a questa richiesta il Ministro della Salute ha confermato questo fatto sta andando troppo di corsa con le slide non credo siano necessari ulteriori commenti siamo nella seconda metà degli anni 70 il nesso di causalità fra l'amianto e il mesotelioma è ormai definitivamente dimostrato la comunità europea si stava orientando per la messa al bando della produzione dell'amianto in Italia invece si cerca in tutti i modi di perpetrare la lavorazione dell'amianto e di nasconderne la sua pericolosità come dicevo prima a fronte di questi eventi documentati in modo inoppugnabile solo la magistratura italiana tra mille difficoltà sta cercando di fornire un baluardo di legalità e di giustizia e sta portando avanti la ricerca dei responsabili non possiamo tacere che la Corte di Cassazione nel novembre del 2014 ha assolto il magnate svizzero Stefan Smitaini ex proprietario della Eternit dal reato di disastro ambientale doloso permanente l'ha assolto per prescrizione quindi non ha negato quanto è emerso nel merito durante il processo ma ha solo dato un'interpretazione rispettabile e legittima anche se non un'animamente condivisa riguardante i termini di prescrizione qui lo vediamo in una foto insieme al al nostro ex presidente del consiglio professor Romano Morodi nonché presidente dell'Unione Europea andiamo avanti lo ricordava prima l'onorevole Beginne le conseguenze di quanto abbiamo visto fanno sì che oggi in Italia residuino circa 32 milioni di materiali contenenti amianto in matrice compatta distribuiti in più di 40 mila siti e in più di un milione di micrositi nei quali l'amianto che sta lì ormai da più di 25 anni continua a ridursi allo stato pulverulento disperdendo le sue polveri e le sue fibre inoltre ci sono circa 3-4 milioni di tonnellate di amianto in matrice friabile soprattutto come coibentazioni degli edifici e come tale presenti in moltissimi edifici pubblici scuole ospedali caserme palestre e via discorrente di questo enorme quantitativo ad oggi risultano bonificate soltanto circa 500 mila tonnellate che rappresentano meno del 2% del totale procedendo di questo passo ci vorranno alcuni secoli per terminare la bonifica tra l'altro quanto bonificato è stato smaltito per oltre il 72% ricorrendo all'esportazione in discariche all'estero prevalentemente in Germania non è questa la sede per affrontare quest'altro annoso problema quello dello smaltimento un capitolo della vicenda dell'amianto di cui si parla poco ma lo ricordava giustamente il deputato prima a Gea quindi un capitolo che muove ingenti interessi economici e che spesso lo rende appetibile anche per la criminalità organizzata la soluzione adottata in Italia e ancora caldeggiata da più parti anche autorevoli è quella dello stoccaggio di tali materiali in discarica mettendo non solo in senso figurato ma anche in senso reale il problema sotto il tappeto costituendo un'ipoteca per le future generazioni e dimenticando che il territorio del nostro paese è quasi tutto ad alto rischio sismico ed idrogeologico la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 già citata ritiene che le discariche siano solo una soluzione provvisoria e che sia di gran lunga preferibile il ricorso agli impianti di inertizzazione capaci di rendere definitivamente innocue le fibre dell'amianto in Italia non esistono impianti di inertizzazione anche perché il quadro normativo che dovrebbe disciplinare tale attività è rimasto incompleto da oltre dieci anni per rendere concreto e palese cosa significhi e cosa comporti la bonifica richiamo velocemente la vicenda della Ethernet siciliana di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa stabilimento aperto nel 1953 e chiuso nel 1993 senza che fosse prevista la bonifica ambientale a carico della società proprietaria ciò ha comportato che oggi questo stabilimento è inserito in un sito di bonifica di interesse nazionale con costi a carico della collettività ci sono alcune foto che vi fanno vedere quello che è oggi lo stabilimento il costo di questo intervento che è quello che ha lasciato lo stabilimento nelle condizioni che abbiamo visto è stato di oltre 20 milioni di euro spesi soltanto per pulire le superfici in condizioni di emergenza al fine di evitare ulteriori danni ambientali la bonifica vera e propria deve tener conto come prescrive l'accordo di programma per gli interventi di riqualificazione ambientali accordo sottoscritto nel 2008 dal ministero dello sviluppo economico dal ministero dei trasporti dalla regione sicilia e dagli enti locali interessati anche degli elevati livelli di contaminazione dei suoli non so se è riuscito a vederlo ma per esempio per la presenza di arsenico cromo e mercurio la concentrazione è superiore di mille volte il valore limite con un costo per non parlare delle fasi d'acquifere con un costo che lo stesso accordo di programma quantifica in 770 milioni di lire di euro e oltre questa situazione è replicabile per tutti i 57 siti di interesse di bonifica di interesse nazionale e allora è lecito domandarsi abbiamo i soldi per tutto abbiamo risorse a sufficienza da poter destinare a un impegno sostanzialmente improduttivo ma reso necessario da un'emergenza sanitaria neanche troppo latente riusciamo a tenere lontana la criminalità organizzata ritorniamo all'interno dello stabilimento di Priolo Cargallo con questa immagine ideata per la presentazione di uno spettacolo teatrale che narrava la tragedia dei 700 lavoratori occupati in questa fabbrica tutti deceduti per patologie asbesto correlato o per tumore tutti tranne una l'immagine ci introduce a quelle che sono le conseguenze sanitarie dell'uso criminale dell'amianto la tabella tratta dal quinto rapporto del registro nazionale dei mesoteliomi pubblicato dall'INA pochi giorni fa rileva la presenza fra la popolazione italiana di 21.463 casi di mesotelioma maligno diagnosticati nel periodo 1993-2012 con un andamento di circa 1.500 nuovi casi ogni anno il trend dei casi di mesotelioma è in continuamento il mesotelioma può manifestarsi anche a distanza di 40-50 anni dalla prima esposizione alle polveri di amianto considerando quindi che il periodo di più intenso utilizzo è stato quello che va dagli anni 60 fino all'inizio degli anni 90 e considerando che ci sono circa 35 milioni di tonnellati come abbiamo visto che disperdono fibre e che fanno proseguire l'esposizione si può prevedere che il picco dei casi si avrà a partire dal 2020 con un andamento costante fino al 2030 periodo per il quale può valutarsi che inizi una diminuzione almeno per i mesoteliomi di origine professionale siamo quindi in presenza di una vera e propria epidemia di patologie asbestocorrelate il mesotelioma è solo l'evento sentinella è quello che ci dice che c'è stata esposizione ad amianto ed è la più rara fra le patologie asbestocorrelate le stime fatte dallo IARC ci dicono che per ogni mesotelioma ci sono almeno due tumori polmonari quindi calcolando che i mesotelioma sono circa 1.500 andiamo a finire a 3.000 tumori polmonari a questi bisogna aggiungere le altre patologie asbestocorrelate che sono letali e che sono il tumore all'alarinja il tumore all'ovaio le malattie non neoplasiche come la sbestosi le placche pleuriche le complicazioni cardiocircolatorie ma anche quelle che sono solo ritenute probabili e possibili collegate con l'amianto quali gli altri tumori delle vie aerei e i tumori del tratto gastrointestinale possiamo arrivare a stimare circa 6.000 decessi ogni anno dovuti a patologie asbestocorrelate il registro dei mesotelioma ne rileva 1.500 cioè circa un quarto questo per darvi un'idea e allora che fare siamo in grado di evitare che si verifichi un nuovo disastro come quello dell'amianto permettetemi a questo punto di citare Oscar Wilde e il suo paradosso l'esperienza può andare avanti l'esperienza è l'insegnante più difficile ed esigente prima ci fa l'esame e poi ci insegna la lezione in questo l'amianto la storia dell'amianto sono veramente l'emblema di come questo paradosso funzioni noi abbiamo usato l'amianto per lungo tempo e in modo pervasivo come lavoratori come cittadini l'abbiamo apprezzato perché ci dava ricchezza benessere e prosperità in quel momento e non ci siamo resi conto delle conseguenze siamo stati ingannati non ci siamo domandati un sacco di cose e oggi ne paghiamo le conseguenze dobbiamo imparare la lezione e la dobbiamo imparare perché la battaglia dell'amianto è stata essenzialmente come abbiamo visto un susseguirsi di informazioni legate di verità falsate di notizie e documenti occultati di sottovalutazioni interessate una controinformazione sistematica e sistemica che può essere replicata in qualsiasi momento per qualsiasi altro agente tossico e nocivo dobbiamo fare anche attenzione che non si continui ad alimentare il problema dell'amianto in maniera pretestuosa quasi a voler creare con questo funesto materiale una cortina fumogena che continui ad occultare la pervasività dell'uso non sano dell'ambiente e dei suoi componenti per avidità di profitto e per mancanza di coraggio nel fare il proprio dovere dobbiamo essere consapevoli che viviamo in un mondo in cui gli effetti dell'inquinamento a danno della salute e dell'ambiente coinvolgono milioni di cittadini rappresentano un viaggio senza ritorno dobbiamo essere consapevoli che il nostro agire deve essere sempre incentrato sulla prevenzione primaria sul principio di precauzione oggi ambiente e salute rappresentano un binomio scindibile e il rapporto con l'ambiente è una delle determinanti fondamentali dello stato di salute della popolazione umana sia infatti consapevoli che la relazione tra l'individuo e i diversi fattori ambientali può dare luogo a diversi stati di benessere o di malattia il professor Giancarlo Ugazio celebre anatomo patologo di Torino professore universitario utilizza il celebre dipinto del Mantegna qui si vede poco che raffigura la figura di San Sebastiano trafitto dalle frecce dei soldati romani queste sono le sue parole la figura del Sebastiano trafitto tra parentesi alias istrice potrebbe rappresentare ciascuno di noi la molteplicità la molteplicità degli agenti patogeni dell'ambiente di oggi patogeni chimici e fisici trova riscontro nell'allegoria dell'istrice San Sebastiano da questo insieme derivano sotto il profimo tossicologico il sinegismo e il potenziamento l'effetto cocktail fenomeno non trascurabile l'uomo insieme con le altre creature che gli fanno compagnia può tentare di adattarsi alle nuove condizioni del progresso ma può campare peggio ed anche meno a lungo questi concetti questa preoccupazione sono già stati fatti proprio dall'assemblea parlamentare del consiglio d'europa con la raccomandazione 1863 del 2009 approvata il 13 marzo 2009 e nota come rapporto ASA ambiente e salute in questo contesto qual è il ruolo dell'ONA cosa ha fatto e cosa fa posso andare allora l'osservatorio nazionale sull'amianto nasce nel 2008 promosso dalla libera università telematica di arti e scienze moderne come centro di alta formazione di ricerca tecnico giuridica e normativa fin dall'inizio della nostra attività ci siamo trovati a raccogliere la sofferenza e le difficoltà dei lavoratori esposti all'amianto e dei familiari delle vittime non c'è stato possibile limitarci ad osservare abbiamo avvertito l'imperativo etico di aiutare queste persone che erano state lasciate sole oggi l'osservatorio conta migliaia di soci che prestano il loro contributo di idee e di lavoro a titolo volontario e gratuito senza fini di lucro anche indiretto siamo presenti in quasi tutte le regioni dal Trentino Alto Adige alla Sicilia dalla Valle d'Aosta alla Puglia attraverso i nostri comitati organizzati ciascuno secondo le proprie caratteristiche e le proprie capacità i comitati sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di perseguire le finalità dell'osservatorio in modo diretto ed immediato dando risposte specifiche alle specifiche esigenze di tutela della salute dell'ambiente e dei diritti così come si manifestano negli rispettivi ambiti di operatività possiamo contare sul supporto di un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte insigni professori e affermati professionisti e intratteniamo rapporti di collaborazione con agenzie e istituzioni di tutto il mondo le nostre finalità sono promuovere e tutelare la salute in ogni ambito e esplicazione della vita umana attraverso la prevenzione primaria cioè la riduzione del rischio la prevenzione secondaria che è la riduzione del danno e la prevenzione terziaria che è riduzione delle conseguenze del danno e si realizza con rispetto del principio sancito dall'Unione Europea del chi inquina paga altre nostre finalità sono quelle di rappresentare e tutelare moralmente e materialmente tutti i lavoratori e i cittadini esposti ad amianto e ad altri patogeni perché nessuno venga lasciato solo e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona e che costituiscono l'essenza della dignità umana noi oggi operiamo a fianco delle persone per assicurare quelle che sono chiamati i diritti negati a fianco delle istituzioni locali e nazionali in una logica sussidiaria dando il nostro contributo in atti di sindacato ispettivo in proposte di legge partecipando alle lavori delle commissioni legislative nazionali e regionali operiamo a fianco della magistratura fornendo nella sua azione di repressione dei reati contro la salute e contro l'ambiente mettendo a disposizione le nostre conoscenze e le nostre informazioni operiamo a fianco delle strutture mediche per alimentare il circuito dell'informazione e della conoscenza operiamo a fianco e insieme alle altre associazioni per unire e condividere per agire in sinergia a tutela dell'ambiente della salute e dei diritti ribadisco con forza a fianco ed insieme perché vogliamo unire e condividere perché la frammentazione non paga anzi questo per noi è un obiettivo importantissimo e prioritario ed aspichiamo che al termine di questa giornata di questo incontro si creino le condizioni per costituire una consulta un coordinamento sovranazionale che partendo dall'amianto dalla lezione dell'amianto affronti in ambito europeo le problematiche della salute e dell'ambiente a tutto tondo in termini di prevenzione primaria rimorgo il mio invito non solo alle associazioni e ai rappresentanti delle associazioni qui presenti ma anche e soprattutto agli onorevoli deputati e ai rappresentanti delle istituzioni dell'Unione affinché prestino la loro attenzione e la loro disponibilità per farsi promotori e sostenitori di questa proposta vorrei dare conto del lavoro svolto e vediamo nella slide velocemente abbiamo creato il dipartimento di ricerca e cura del Museo degli Omo la cui direzione è affidata al professor Luciano Mutti ricercatore di fama internazionale che parlerà dopo di me abbiamo istituito un ambulatorio oncologico online abbiamo istituito un dipartimento di assistenza psicologica online abbiamo istituito le guardie nazionali amianto che operano sul territorio per segnalare la presenza di siti contaminati e per seguire l'evoluzione della segnalazione abbiamo avviato la pubblicazione di alcuni quaderni tematici cioè di monografie pensate come contributo di approfondimento tecnico e scientifico tuttavia il nostro investimento più importante è rivolto ai giovani grazie all'impegno e alla sensibilità dei docenti e dirigenti scolastici riusciamo ad inserire le tematiche dell'amianto nei programmi curricolari le slide evidenzia due esperienze fatte lo scorso anno rispettivamente ad Agri a quest'anno scusate ad Asti e ad Agri con i ragazzi delle scuole medie superiori crediamo fermamente in questo approccio formativo e in tutte le iniziative di divulgazione e di informazione perché il campo dell'ignoranza è molto vasto la prima cosa che fa genera confusione ho finito la slide della tundra credo che sia quella che meglio dà la 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 dimensione di questa di questa della sperdimento di fronte all'ignoranza ad esempio in molti ambiti il problema dell'amianto viene semplicisticamente ridotto al problema degli esposti e delle loro patologie un problema che riguarda in definitiva una porzione limitata della popolazione mi ripeto ma questa impostazione non permette di cogliere l'aspetto centrale che è costituito dal problema creato dagli altri tossici dagli altri patogeni da tutti i tossici e da tutti gli agenti patogeni la nostra volontà non è quella di essere al servizio delle vittime soltanto ma anche e soprattutto al servizio di tutti coloro che corrono il rischio di diventare vittime quindi anche noi per questo non ci stancheremo mai di batterci per la prevenzione primaria per l'ambiente pulito per la pulifica dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro per questo ci impegniamo in questa nostra battaglia che è allo stesso tempo culturale e valoriale voglio concludere con questo pensiero di Albert Schweitzer l'apostolo laico del rispetto della vita un pensiero che segna i limiti dell'uomo e contemporaneamente è un igno alla sua potenza quello che tu puoi fare è solo una goccia nell'oceano ma è ciò che dà significato alla tua vita vi ringrazio per l'attenzione credo che per motivi di traduzione sarebbe opportuno se qualcuno ha delle domande specifiche se le potesse segnare perché abbiamo i traduttori soltanto fino a un quarto alle sette e quindi magari approfitterei subito con il prossimo oratore che appunto parlerà in inglese il signor Lucas Vardin che prego di accomodare il signor Lucas Vardin ci parlerà di quello che è la questione nell'ambito delle istituzioni europee l'Unione Europea ha sempre avuto un ruolo chiave nella promozione della cultura della prevenzione noi siamo i paladini di quello che è il principio di precauzione che sancito nei trattati ed è un faro di sicurezza in un mondo dove il processo di raccolta delle informazioni e delle evidenze scientifiche può tardare a bloccare potenziali situazioni di rischio purtroppo nonostante la robustezza del suo quadro giuridico comunque l'Unione Europea ha dei serissimi problemi di amianto nei suoi palazzi quindi chiaramente come portavoce ho parlato dell'importanza appunto della voce dei lavoratori e in questo caso dei lavoratori delle istituzioni e nonostante noi non vogliamo essere ipocriti abbiamo sempre denunciato i privilegi dei funzionari ma dobbiamo riconoscere che si tratta di persone molto qualificate competenti appassionate senza le quali queste istituzioni comunque non potrebbero esistere e che come comunque ogni altro lavoratore d'Europa meritano di essere tutelati e di lavorare in un posto in un luogo sicuro il personale dell'Unione è disseminato in vari palazzi tra Bruxelles Lussemburgo e Strasburgo e ogni sede ha o da avuto problemi legati all'amianto contenuto in alcuni palazzi e qualche mese fa quando abbiamo pensato di organizzare questa conferenza abbiamo mandato un invito a molte persone e ho parlato con molti funzionari che però hanno preferito rimanere anonimi e da nessuno abbiamo avuto risposte positive per intervenire tranne appunto il signor Luca Svardin che è il presidente del comitato del personale di Bruxelles e che ci farà l'onore di intervenire subito dopo la mia introduzione le situazioni di pericolo non mancano la sede per esempio della digitraduzione della commissione a Lussemburgo tra bocca di amianto il palazzo SQM qui a Bruxelles che è la sede dei segretariati di commissione è oggetto di un trattamento esteso e ricordiamo anche un incidente piuttosto grave a Strasburgo sono tutti elementi che portano nella stessa direzione sono un segnale che è un invito a fare di più e meglio sul fronte della prevenzione l'unione non può richiedere ai paesi membri quello che lei per prima non applica a se stessa e quindi insomma qui si aprirebbe una parentesi che però forse è meglio di cui non è opportuno parlare comunque cedo la parola al signor Lucas che è il presidente del comitato locale del personale di Bruxelles grazie per l'invito benvenuti a Bruxelles non è male come potete pensare per la presentazione vorrei fare qualche commento rappresento qui il comitato locale del personale vi spiego che cos'è lavoriamo alla commissione e la presentazione è fatta dal punto di vista del personale di Bruxelles quindi ci limitiamo alla sola Bruxelles perché rappresentiamo qui i colleghi di Bruxelles comincio con il contesto e le finalità del comitato locale del personale il comitato locale del personale rappresenta il personale viene eletto ogni tre anni ci sono state le elezioni a giugno rappresentiamo oltre 22.000 colleghi che votano hanno votato a giugno e hanno eletto 27 membri e 27 supplenti a questo piccolo Parlamento che rappresenta i loro interessi rispetto alle risorse umane della commissione il nostro ruolo è fare in modo che le regole vengano rispettate e che le condizioni di lavoro siano applicate correttamente siamo il comitato locale più numeroso ci sono diversi comitati locali a Ispra a Karlsru e a Lussemburgo e poi c'è un comitato personale centrale verso il quale deleghiamo colleghi che si riunisce una volta al mese per discutere le questioni relative all'applicazione dello statuto che disciplina le regole di assunzione e lavoro alla commissione europea uno dei nostri compiti è disegnare colleghi in determinate commissioni c'è un comitato congiunto per esempio fra rappresentanti della commissione risorse umane DG risorse umane e poi ci sono i nostri rappresentati e qui discutiamo di questioni relative a salute e sicurezza uno dei comitati è quello per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro sigla CPPT il cui ruolo è quello di vigilare sul rispetto delle regole relative alle condizioni di lavoro a marzo è stato creato un gruppo di lavoro amianto che si occupa specificamente della tematica amianto è un gruppo di lavoro composto da un'ampia gamma di rappresentanti colleghi nostri del servizio medico colleghi che si occupano di questioni sanitarie rappresentanti della direzione generale risorse umane PMO che è la cassa malattie della commissione europea è il gruppo supporto cancro che vede la partecipazione di colleghi interessati alla tematica per loro situazione personale o comunque per interesse generale questo gruppo costituito due anni fa ha un mandato piuttosto ampio si occupa dello screening dell'esistente e della strategia per il futuro dopodiché si verificano le informazioni date ai colleghi che sembrano non essere sufficienti soprattutto per quanto riguarda gli edifici a rischio misure assunte per prevenire l'eventuale insorgenza di malattie legate all'amianto il riconoscimento di malattie professionali vale a dire adeguate procedure per il riconoscimento e verifica che vengano correttamente applicate e ancora migliorare le procedure per le vittime se ci sono vittime occorre vigilare a che non soffrano ulteriormente e le procedure mediche devono dunque svolgersi nel modo più snello possibile e ancora le informazioni per i meccanismi di assistenza e di supporto nei confronti delle vittime ed infine la campagna di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati all'amianto e eventuali e possibili conseguenze il follow up abbiamo avuto diverse riunioni del gruppo di lavoro sono state presentate relazioni abbiamo discusso diverse questioni vi posso dare una breve panoramica abbiamo compilato tutte le informazioni relative all'amianto abbiamo un sito dedicato su Intracom che è l'intranet della commissione per i colleghi specificamente dedicata alle condizioni di lavoro e c'è una pagina dedicata in particolare alla presentazione di informazioni relative all'amianto passato presente e futuro dettagli sulle persone o dei servizi da contattare medici e così via dunque con informazione molto dettagliata per tutti coloro che sono interessati e link a diversi documenti abbiamo anche creato un documento di domande frequenti il famoso FAQ i colleghi hanno accesso a queste domande per verificare direttamente se possono essere potenzialmente vittime di una patologia legata all'amianto c'è un questionario che aiuta peraltro a verificare per l'appunto se si può essere potenzialmente vittime di queste patologie e c'è anche una tabella messa a punto dai nostri servizi per verificare quali edifici sono sicuri dal punto di vista dell'amianto o privi di amianto privi di amianto è chiaro come concetto sicuri dal punto di vista dell'amianto significa che ci sono elementi di amianto ma controllati la tabella è complessa non si legge nulla sono tutti gli edifici di Bruxelles e di Lussemburgo è una tabella in costante aggiornamento con tutte le informazioni relative all'amianto e ad elementi di amianto con ubicazione e misure assunte per la prevenzione quanto alle procedure e al servizio medico la questione amianto è considerata patologia professionale è molto importante sottolinearlo ci sono degli esperti che si occupano di queste patologie specifiche e la commissione copre al 100% i costi legati alle patologie dovute all'amianto il servizio medico della commissione europea riconosce quattro malattie professionali legate all'amianto l'asbestosi quindi l'infiammazione dei pulmoni il mesotelioma un tumore collocato nella pleura e in Belgio si registrano 300 casi carcinoma dei polmoni e infezioni benigne della della pleura con tutte le conseguenze legate sapete che queste conseguenze possono emergere anche 30-40 anni dopo l'esposizione quindi è una questione che ci occuperà ancora per diversi decenni le malattie legate all'amianto non sono curabili devono essere dunque riconosciute come malattie professionali e il servizio medico e la cassa malattia forniscono un supporto finanziario al 100% normalmente la copertura è 80-85% l'altro 15-20% in casi ordinari è coperto dal paziente a meno che il paziente non abbia un'assicurazione complementare nel caso di una malattia seria invece il servizio medico la cassa malattia prevede un rimborso al 100% abbiamo avuto un esercizio di screening negli ultimi anni 603 colleghi sono risultati potenzialmente esposti all'amianto sono stati oggetto di screening da parte del servizio medico e hanno avuto un check-up per sintetizzare il comitato locale del personale come rappresentanza dei 22.000 colleghi presenti a Bruxelles nei vari edifici di Bruxelles partecipa attivamente al processo legato a tutti i processi legati all'amianto seguiamo da vicino tutti questi aspetti e nella nostra relazione annuale scriviamo dettagliatamente quanto è stato fatto per quanto riguarda l'amianto è utile sapere che i colleghi sono meglio informati ci sono diversi modi attraverso i quali i colleghi possono avere informazioni la comunicazione è chiara vi è una chiara politica di comunicazione della commissione attraverso FAQ siti dedicati e servizi dedicati che consentono di contattare i colleghi e ancora gli edifici vengono monitorati costantemente ciò viene fatto nel quadro di un processo aperto verificabile da tutti ed è questo il risultato della nostra partecipazione alla procedura questi sono i dettagli se avete ulteriori domande su come operiamo e se naturalmente avete domande resto a vostra disposizione grazie ringrazio il dottor Vardin per la sua presentazione e in questo caso per appunto profittare ancora degli interpreti e degli staff presenti invito chi avesse delle domande specifiche a segnalarlo bisogna premere il pulsante ok ci sono e allora buonasera a tutti quanti sono una consigliera del momento 5 stelle di Collegno e da un po' cerco di affrontare anche personalmente il problema due cose uno come si intende trovare l'alternativa rispetto alle discariche quelle che noi oggi conosciamo purtroppo in Italia i famosi buchi in cui si sotterrano sotto il tappeto il problema e tra le altre cose volevo ricordare in questo momento noi non abbiamo il collegamento con internet altrimenti avrei cercato il nome dell'ingegnere che da noi in Italia sta sperimentando ha sperimentato la dissoluzione diciamo così dell'amianto immergendolo pare paradosso nel latte il latte ha la proprietà di pare però io ripeto non sono un'esperta del mestiere nel siro del latte nel siro del latte esattamente pare che sia in grado di scindere e modificare chimicamente quindi rendere innocuo l'amianto se questa notizia è verificata perché ripeto io ne sono semplicemente a conoscenza non sono un esperto potrebbe essere ad esempio una delle possibili soluzioni per evitare di rimettere sotto terra in discarica l'amianto da noi in Italia c'è molto la tendenza a minimizzare il problema ovvero a non riconoscere le persone malate in generale di tumore a cui si possono ovviamente riferire al discorso del fatto che sono state a contatto con l'amianto quindi in questo senso qua per evitare risarcimenti per evitare complicazioni diffusione di notizie eccetera eccetera ma io al contrario come dicevate voi lo ritengo una cosa assolutamente importante noi ad esempio a Collegno quindi un piccolo comune italiano abbiamo chiesto e ci è stata negata l'istituzione di un registro tumori locale che secondo me potrebbe anche in questo caso essere una soluzione per individuare i tipi di tumore la persona l'età fare indagine e quindi magari ad arrivare con più determinazione a identificare le persone che sono venute a contatto con l'amianto e quindi per il loro risarcimento insomma definire che ne abbiano diritto e quindi secondo me è un pezzo importante e poi legato a questo che cosa si fa invece per fare ricerca rispetto al cancro cioè alla cura del cancro quindi che non siano i soliti metodi tradizionali mi spiace che è il mio radio che conosciamo già allora ringrazio per la domanda chiederei magari di aspettare per la risposta intanto la relazione anche del professor Mutti così abbiamo un quadro più completo e poi chiederei magari di dare la precedenza alle domande delle persone che non parlano italiano così da approfittare della traduzione fino perché purtroppo abbiamo i tempi contingentati se qualcuno degli staff presenti ha qualche domanda da rivolgere nella specie specifica al dottor Vordin no question so so we can go further bene professor Mutti no my question is very easy how can you screen subjects come la domanda è semplice come si fa screening di chi è stato esposto all all'amianto come si fa questo screening sì c'è un programma definito del servizio medico ma su come si procede nel concreto non chiedete a me non conosco le procedure mediche di dettaglio però so che viene identificata la persona che è stata in contatto con l'amianto negli edifici chi ha lavorato dunque negli edifici queste persone sono note alla commissione si procede dunque con uno screening e si analizza poi per quanto tempo si è stati potenzialmente esposti eccetera eccetera e poi c'è un questionario si chiede per esempio per quanto tempo una persona ha lavorato nell'edificio è intervenuta la persona in operazioni tecniche sull'edificio si identifica quindi la categoria di rischio e si effettuano ulteriori screening di carattere medico va bene sì come membro dello staff diciamo da poco tempo volevo chiedere al signor Warden se ci sono delle situazioni ancora di gravità presenti a Bruxelles in quanto riguarda i palazzi delle istituzioni come contaminazione di amianto sia commissione che parlamento immagino lei parli più per la commissione o se a Bruxelles possiamo considerare la situazione monitorata e sicura grazie per la domanda torno alla tabella abbiamo identificato gli edifici tutti gli edifici dall'elenco potete vedere tutti gli edifici della commissione solo della commissione non abbiamo informazioni oltre a quelle della commissione quali edifici sono privi di amianto come sapete ci sono ancora porte in cui è presente amianto ma in modo tale da non essere pericoloso per la salute dunque non vi è pericolosità è sottovuoto sappiamo quali porte contengono dunque amianto ma sappiamo anche che quelle porte non hanno un effetto negativo sulla salute ecco perché stabiliamo diverse categorie sicuro o privo di amianto nel 1982 scusate 92 il berlemont è stato evacuato è stato radicalmente ristrutturato ci sono voluti quasi dieci anni è stata una questione seria effettivamente e per quanto ci risulta lo stato vi è stata una risposta adeguata la risposta più importante però è che chi è stato vittima chi è stato esposto all'amianto e ha sviluppato alcune patologie è seguito secondo procedure precise e con un con il sostegno necessario anche finanziario grazie bene io proseguirei con l'ultimo panel prima ancora della risposta così probabilmente una parte sarà anche coperta dalla presentazione del professor Mutti entriamo quindi nella questione propriamente medica una delle principali conseguenze dell'amianto come appunto già stato detto è il mesotelioma tumore della pleura particolarmente suddolo si può presentare in un periodo variabile tra i 15 e i 45 anni dall'esposizione è fortemente se non esclusivamente legata all'esposizione a fibre ma non esclusiva di chi quelle fibre le produceva grazie all'osservatorio nazionale sappiamo che ci sono anche persone decedute in ambito di categorie professionali non strettamente legate appunto alla lavorazione della fibre quindi categorie che non dovrebbero essere a rischio la produzione è bandita dal 1992 ma appunto considerando la lunga incubazione ci aspettiamo un picco intorno al 2020 noi e chi proviene dalla provincia di Alessandria sa che tristemente nota questa l'insorgenza di questa malattia l'arma per difenderci chiaramente oltre a fare prevenzione è fare ricerca e per questo abbiamo oggi l'onore di contare tra gli oratori il professor Mutti oncologo e direttore della ricerca sul cancro all'università di Salford in Inghilterra direttore del gruppo italiano di ricerca e terapia sul mesioterioma che ci illustrerà oggi quindi la situazione i problemi della ricerca i modelli di finanziamento e quant'altro sono stata informata che lei parlerà in inglese ok siamo italiani quindi sarò flessibile iniziamo con l'inglese e poi semmai passiamo all'italiano quando non saranno più disponibili gli interpreti ok abbiamo un laser qualcosa per seguire le diapositive no andiamo indietro oggi uno zapper un telecomando umano che mi può mandare avanti nelle slide cominciamo con la prima slide io lavoro presso l'università di Manchester da ormai circa 18 mesi abbiamo istituito un'equip specifica per il mesotelioma e i tumori correlati all'amianto questo è un documento molto vecchio pubblicato nel 1988 89 adesso non ricordo esattamente e mostrava l'incidenza nel Regno Unito del mesotelioma e come tale incidenza fosse correlata alle importazioni di tonnellate di amianto il che causava un'epidemia a livello europeo ma non soltanto europeo anche in molti altri paesi del mondo dove l'amianto ancora viene utilizzato in modo libero indisciplinato e dove purtroppo individui sono esposti queste sono foto per esempio scattate in India soltanto alcuni anni fa e vedete che ci sono persone che lavorano sull'amianto senza nessun tipo di dispositivo di protezione questa poi è una pubblicazione di un mio caro amico tra l'altro la dottoressa Kazan che ha scritto appunto che l'amianto è una bomba orologeria per l'India perché ci aspettiamo appunto un picco del mesotelioma in India e nei nostri paesi e anche del resto proprio per via della situazione precedente attuale e purtroppo anche futura per quanto riguarda l'esposizione all'amianto una epidemia quella del mesotelioma dunque non solo europea possiamo andare avanti vedendo su questa slide tutti i paesi in cui si utilizza adesso l'amianto è un problema enorme ce lo aspettiamo in modo particolare nei paesi dell'est nell'ex Unione Sovietica in particolare dove ovunque sono grandi le quantità di amianto sfortunatamente il problema in questo caso è che talvolta la diagnosi non è particolarmente accurata dunque le cifre a nostra disposizione per quanto riguarda i casi di mesotelioma non sono tanti quanto sono realmente perché appunto la diagnosi non è particolarmente sviluppata in questi paesi se così possiamo dire però in ogni caso è un rischio attuale quello a cui facciamo fronte e le compagnie le società farmaceutiche dovrebbero esserne a conoscenza dovremmo cooperare con queste società farmaceutiche affinché investissero più denaro proprio per il mesotelioma nel 2004 quando ero giovane direi 11 anni fa c'è stata una riunione mondiale che si tiene su base biennale per il mesotelioma e abbiamo stilato in quell'occasione se sono tre prodotti era lento dice l'oratore in quell'occasione abbiamo stilato questi verbali della riunione pubblicati sulla rivista Oncogin da me e Courtney Buradus in cui scrivevamo che nel 2004 il mesotelioma era tanto una sfida per gli scienziati quanto un'opportunità di applicare la ricerca traslazionale e i concetti di questo tipo di ricerca a un tumore per lo più sconosciuto e da lì in poi che cosa è accaduto penso che un paziente e i pazienti che vengono nelle nostre cliniche vogliono da parte nostra fatti e non miti parole vuote non un qualcosa di nuovo che però non sappiamo ancora se sarà applicabile o meno vogliono un sistema che possa migliorare le loro chance di sopravvivere e al momento ci troviamo in una situazione abbastanza deludente abbastanza tetra non ho scritto le linee guida europea io ho scritto soltanto la parte relativa alla chemioradioterapia per il mesotelioma e comunque queste linee guida sono state pubblicate nel 2010 e passando alla prossima diapositiva posso dirvi che queste nuove linee guida saranno pronte si spera entro il 2017 perché fondamentalmente è un esercizio molto lungo e molto minuzioso quello necessario per stilare queste linee guida perché richiede che si passino e rassegna tutte le pubblicazioni dal 2010 a ora per capire se abbiamo informazioni nuove che possiamo inglobare in queste linee guida nel 2010 però appunto dicevo sono d'accordo nel dire che per via della mancanza di prove relative all'efficacia della chemioterapia la decisione di somministrare la chemioterapia a un paziente si diceva all'epoca dovrebbe essere discussa proprio col paziente stesso o con i suoi parenti sulla base caso per caso ad hoc quindi adesso la chemioterapia come del resto ha chiesto prima la signora le terapie adesso che si concentrano proprio sulla chemioterapia dicevo non possono più di tanto migliorare le chance di sopravvivenza di chi è affetto da mesotelioma tre anni fa abbiamo pubblicato un documento che dimostrava che i pazienti con una risposta parziale e pochi pazienti con una risposta totale avevano un tempo di sopravvivenza stimato di tre mesi che è molto basso dunque questa purtroppo è la base da cui partiamo ad operare prego telecomando umano avanti sono d'accordo con questo tipo qua sulla foto come sapete nell'oncologia il cancro è una malattia genetica non vi è dubbio sul fatto che il cancro abbia anche fattori a livello di anomalie genetiche che lo causano c'è chi pensa che le anomalie genetiche possono essere scoperte facilmente e che quindi il cancro possa essere curato semplicemente cambiando il genio che il gene chiedo scusa che muta però come diceva questo signore in foto le cose devono sia essere semplici ma non troppo semplici più semplici di quello che sono cosa è successo? è stato pubblicato questo documento nel 2012 sul New England Journal of Medicine e è un documento fondamentale è stata una svolta perché questo documento ha avuto autori che operano a Londra e ci dimostra che nello stesso tumore nelle casistiche dello stesso tumore si possono individuare vari profili genetici che vengono considerati tipici di una malattia aggressiva o non aggressiva rispettivamente però ripeto questo viene riscontrato in vari punti o focolai dello stesso tumore quindi è questo che noi definiamo come eterogeneità dei tumori cioè i tumori non sono mai uguali le cellule tumorali non sono mai uguali nell'organismo nei vari focolai dello stesso cancro ci sono variazioni e soprattutto anche tra vari pazienti alla fine dei conti dunque se si ha un profilo genetico delle cellule tumorali ciò non significa che tutto quel tumore avrà queste anomalie genetiche in tutto l'organismo questa è una grande problematica che bisogna risolvere prima di procedere a una cura del cancro tramite un'impostazione genetica il problema ora qual è? ed è un problema attuale del resto ci vorranno purtroppo anni prima di risolvere la criticità che ho appena descritto quantomeno 10-15 anni ma da ora a quel momento cosa facciamo? perché ci sono persone che vengono ora nelle nostre cliniche e questi pazienti ci chiedono ora cosa dobbiamo fare e non domani non tra una settimana né tra 10 anni dunque mentre aspettiamo la medicina basata sulla genetica dobbiamo comunque ripensare quanto abbiamo fatto finora perché la scienza non si sviluppa mai in modo lineare sarebbe troppo facile se così fosse purtroppo dobbiamo purtroppo talvolta procedere a zig zag ripensare quello che abbiamo fatto finora dobbiamo essere flessibili nella nostra impostazione e per cercare di capire qual è il momento esatto in cui magari prendere una svolta e ciò vale soprattutto per il mesotelioma due anni fa nel 2013 appunto c'è scritto abbiamo pubblicato un documento sotto forma di opinioni o parere di esperti perché ci è stato chiesto cosa possiamo fare per i pazienti dopo che la chemioterapia fallisce ovvero nella maggior parte dei casi abbiamo passato in rassegna tutta una serie di documenti pubblicati nel corso degli ultimi dieci anni e ricerca degli ultimi dieci anni e ciò che è emerso da questa analisi fondamentalmente è che tutte le speranze che nutrivamo nel 2005 sono state riesaminate da alcuni autori che ci dicono che per esempio l'inibizione dei fattori di crescita che era un grande ambito in cui intervengono tutta una serie di nuovi medicinali contro il cancro chiamati appunto inibitori dei fattori di crescita si utilizzano questi medicinali per esempio il cancro al seno con meno efficacia però su altri tipi di cancro come cancro ai polmoni e dunque se c'è un inibitore dei fattori di crescita e funziona per esempio i polmoni e il seno in parte allora perché questi stessi medicinali non dovrebbero funzionare invece per il mesotelioma e quindi ci siamo detti siamo sicuri che nei prossimi dieci anni questi inibitori cambieranno totalmente lo scenario di chi è affetto da mesotelioma e la sopravvivenza la prognosi di questi paesi sarà decisamente più lunga ci siamo detti però purtroppo così non è stato e dovremmo dunque porci l'interrogativo seguente come mai? qui c'è un proverbio irlandese però chi viene dal Regno Unito se lo attribuisce se lo attribuisce la paternità in ogni caso il senso di questo proverbio è che è meglio cambiare che stare fermi è meglio cambiare quanto abbiamo fatto finora esplorando nuove orizzonti per i pazienti affetti da mesotelioma che vanno al di là della chemioterapia sia al momento che in futuro avanti prego finora vi ho spiegato quanto è accaduto ma da qui in poi cercherò di illustrare quanto accadrà nei prossimi diciamo cinque anni forse addirittura meno i tumori sono spesso soggetti a ipossia una delle ragioni per cui alcune cellule tumorali non muoiono mai è che proliferano molto lentamente perché sopravvivono anche in condizioni molto difficili o micro condizioni in un micro ambiente molto difficile questo micro ambiente molto difficile è particolarmente privo di ossigeno ipossidico dunque non vi sono per esempio vasi sanguini che possono errorare a certe cellule dei tumori e quindi queste cellule tumorali che alla fine sono le peggiori tra virgolette sono quelle che riescono a sopravvivere ed è per questo che resistono anche del resto alla chemioterapia torniamo indietro questo studio pubblicato soltanto alcuni mesi fa sul cancro ai polmoni da un mio amico ricercatore australiano il professor Enon Olak ha messo in luce il fatto che il mesotelioma è un tumore particolarmente ipossidico uno dei tumori più soggetti a ipossia mai studiati nell'ambito dei tumori dell'essere umano avanti e in più dimentichiamoci adesso questa slide questa è solo per mostrare che ci sono tanti cenni biologici tutte queste sostanze CA9 in occe e così via l'MCT1 che è una proteina che contribuisce a eliminare alcune sostanze dalle cellule sostanze prodotte dall'ipossia più MCT1 si ha peggiore è la propria prognosi in ogni caso ci sono tutta una serie di cenni che si muovono in una direzione che ci indica che l'ipossia è un fattore un anzi un obiettivo un target che si può curare con cure farmacologiche un fenomeno che si può appunto modulare o inibire tramite l'utilizzo di farmaci anche qui vedete questa proteina CA9 di cui parlavo prima che è presente nelle cellule di mesotelioma e ha un impatto diretto sui pazienti e questa distribuzione di questa sostanza CA9 è interessante sapere che è molto simile a quello che succede per esempio nel carcinoma al pancreas che è un cancro che resiste molto alla alla chemioterapia e la ragione per cui il mesotelioma e il cancro al pancreas sono così resistenti alla chemioterapia è proprio perché questo enzima è molto presente in entrambe queste forme tumorali un altro marcatore appena pubblicato un mese fa ci dimostra che c'è una proteina chiamata EIF6 ma non preoccupatevi del nome è una roba molto tecnica è una proteina che colpisce la traduzione del DNA e è un marcatore però molto sensibile molto ricettivo dello stress delle cellule quando le cellule sono in uno stato di stress di tensione modificano il DNA utilizzando questa proteina EIF6 molto di più rispetto alle cellule normali anche questo è un marcatore nella nostra ricerca tumorale è un primo passo importante per quanto riguarda il target terapeutico il fatto che questa EIF6 possa essere proprio presa di mira da farmaci che non siano chemioterapia bensì un farmaco che si chiama enzostorina prodotto dalla lilline mi rendo conto che appunto non è un farmaco che utilizziamo ancora molto per il mesotelioma però questa è un'altra questione la cosa importante è che questi sono fattori che ci rendono possibile curare magari in futuro con i farmaci durante la premessa che ho fatto vi dicevo che il cancro è una malattia genetica e al momento stiamo studiando l'espressione dei geni nell'ambito del mesotelioma e abbiamo individuato 119 geni che sono modulati o modificati nell'ambito del mesotelioma tra questi geni soltanto 4 sono correlati alla possibilità di sopravvivere la presenza di geni specifici di questi geni specifici significa che il paziente sopravviverà meno e la cosa interessante è che questi geni sono tutti anche correlati all'iposia e sono sovrappresentati soltanto in condizioni di iposia ora vi spiego cosa significa la genetica per quanto riguarda le sue prospettive in materia di cura terapeutiche forse non avete mai sentito parlare del miRNA si tratta di piccole sequenze di RNA che normalmente vengono utilizzate per tradurre il DNA ma queste microNRA perché sono sequenze molto brevi non fungono non servono alla traduzione del DNA bensì alla modulazione del DNA loro stesse queste sequenze modulano l'espressione dei geni e alcune combinazioni di questo RNA in alcuni tessuti sono correlate alla sopravvivenza e più microRNA presenti in un caso peggiore la prognosi questo è un documento tra l'altro da cui provengono questi dati che al momento è in fase di riesame e viene stilato col professor Carlo Crocino aio e vi sono appunto dicevo alcune combinazioni di microRNA che hanno una correlazione a maggiore sopravvivenza e a una reazione a liposia quindi vedete torna in gioco liposia perché liposia pare proprio essere un qualcosa che proprio riguarda il cancro e il mesotelioma in particolare un esempio di quello che intendevo perché non è che sono solo parole il microRNA 16 è una sequenza di microRNA che è cancellata eliminata in condizioni di iposia e è eliminata cancellata anche dalle cellule affette da mesotelioma alcuni anni fa ho così un aneddoto personale adesso mi è stata offerta una carica a Sydney in quanto direttore di un centro di ricerca oncologica per i tumori correlati all'amianto e insomma mi sono chiesto cosa fare ho accettato alla fine non ho accettato ma ho cominciato a collaborare però con questo centro e ho chiesto mio collega lì in loco come mai non andiamo a considerare i microRNA che sono anomali in condizioni di iposia ed è emerso che il microRNA 16 non è espresso in queste condizioni dunque la domanda è cosa accade se possiamo sostituire il microRNA in questi pazienti cosa accadrebbe nell'ipotesi che con una società a Sydney abbiamo avviato una cosiddetta macrocell delivery non so se sapete cosa si intende non so se parlate se sapete cosa significa quando si dice macro delivery una nuova tecnologia per poter avere delle minime quantità di farmaci tramite appunto la nano delivery la nano somministrazione delle microcellule di questi farmaci appunto o comunque microparticelle di queste sostanze attive abbiamo appunto introdotto in queste mini cellule nano cellule le sequenze di microRNA 16 e abbiamo utilizzato un drip utilizzando lanciando un test clinico di fase 1 un test clinico per verificare se questo composto avrebbe avuto un impatto tossico nocivo o meno è la fase 1 di qualsiasi studio clinico questa al contempo abbiamo tenuto in considerazione quello che succedeva dal punto di vista degli altri risultati medici e la relazione su questo caso è stata pubblicata alcuni mesi fa da Glenn non sono coautore in questo caso però appunto questo come vedete è il risultato di un'analisi e da sinistra a destra vedete il paziente prima in mezzo c'è un paziente che è peggiorato dopo alcuni mesi di questo trattamento questo è appunto un'analisi in cui si vedono tutte le zone nere e poi dopo 6 mesi a destra questo analisi ha migliorato invece in questo caso la situazione per una parte del tumore che è stata ridotta enormemente grazie al trattamento ecco non sto dicendovi che questa sarà la panacea per il mesotelioma daremo a tutti questa cura quando c'è il mesotelioma però sto cercando di dirvi che la genetica già può essere utilizzata se si considerano alcuni geni in modo puntuale che si presume abbiano un impatto su questo cancro perché sono tipici di questo cancro quindi non è soltanto materiale genetico bensì sono delle cose che andiamo a cercare in modo molto puntuale perché abbiamo dei cenni che vi ho mostrato prima e che ci indicano che per questo tipo di geni ci potrebbe essere una funzione importante è la prima volta che abbiamo conseguito risultati simili sugli esseri umani tra l'altro utilizzando la terapia genetica sul mesotelioma adesso c'è un nuovo progetto presso un'altra università utilizzando sempre questa nano delivery non a Sydney in un clima molto peggiore dal punto di vista atmosferico ma comunque appunto stiamo cercando di utilizzare questa soluzione per l'ipossia e pensiamo che lo studio che emergerà da questo test clinico sarà disponibile tra un annetto ecco così questa è una stima ottimistica magari ci vorrà un po' di più in ogni caso questo è quello che abbiamo avviato soltanto due mesi fa prossima slide la chemioterapia non funziona come mi ha chiesto appunto la signora ci sono pazienti che hanno più possibilità di rispondere in modo positivo e alcuni modelli di bioinformatica ecco non chiedetemi quali sono i dettagli devo dire la verità perché la bioinformatica non è il mio campo però mi dicono questi documenti che sono stati pubblicati questi studi che sono stati pubblicati che secondo il profilo genetico di un paziente possiamo predire prevedere con un modello bioinformatico ogni punto che vedete qua che rappresenta un gene un gene che sappiamo che viene o meno mutato o subisce una metomorfosi o meno nel mesotelioma e questo modello riesce a prevedere circa per l'80% la sensibilità di una linea cellulare a un intervento farmacologico di un certo tipo ripeto una linea di cellule un ceppo di cellule poi il prossimo passo sarà utilizzare questa tecnologia appunto sul mesotelioma in modo pratico e constatare se lo stesso profilo genetico e la stessa relazione causale può essere dimostrata anche negli esseri umani e penso che questo studio avrà una tempistica gli altri sei mesi prima dei risultati e in questo caso sono sicuro perché è un istituto di ricerca molto avanzato che se ne occupa però questo studio potrebbe essere molto importante potrebbe fornirci un modello per classificare i pazienti per cui possiamo predire che abbiano una risposta positiva alla chemioterapia e non sottoporre a tutti gli effetti negativi della chemioterapia quei pazienti per cui la terapia è inutile per lo più perché i pazienti che reagiscono alla chemioterapia sono 3 su 7 il 30% dei pazienti che hanno il mesotelioma reagiscono alla chemioterapia senza però purtroppo avere grandi guadagni in termini di prognosi di anni di vita il tumore però appunto può subire un impatto dalla parte della chemioterapia per quanto ridotto nel 30% dei casi un'altra cosa molto permettente a cui stiamo lavorando non solo io ma anche altri colleghi sono le cellule staminali tumorali le cellule staminali tumorali sono quelle cellule più resistenti da cui le cellule tumorali mature si moltiplicano possiamo individuare farmaci che sono particolarmente attive sulle cellule staminali e la cosa divertente è che una dei farmaci più promettenti che può uccidere le cellule staminali dei cancri tumori ripeto non quelle normali e non le cellule mature dei tumori è la doxiciclina che causa purtroppo degli effetti negativi per quanto già funzioni sugli esseri umani per altre forme di cancro come per esempio il cancro all'occhio è un farmaco che costa 3 euro 3 euro 200 milligrammi al giorno e funziona su certi ceppi cellulari in modo magnifico in modo ottimo ho perso purtroppo un attimo il tempo e quindi non ci sono più gli interpreti devo speciare tutto questa costa 3 ok questa costa 3 euro e la stiamo utilizzando su linee di tumori di tutti i tipi dal tumore del melanoma all'ancans al tumore del polmone ovaio mesotelioma e pancreatico adesso abbiamo un trial aperto in Italia a Trieste in cui faremo utilizzeremo questo farmaco sul paziente prima dell'intervento chirurgico sia con tumore del polmone che mesotelioma prima dell'intervento chirurgico e valuteremo prima di cominciare la terapia alcune di quelle caratteristiche che vi ho fatto vedere prima di sensitività all'ipossia e poi le valuteremo tratteremo i pazienti e poi durante l'intervento chirurgico il pezzo chirurgico verrà rivalutato per gli stessi marcatori questo ci consentirà e poi valuteremo anche la sopravvivenza totale di pazienti allo stesso livello con lo stesso trattamento con lo stesso intervento chirurgico questo ci consentirà si chiama open trial open window trial e ci consentirà di capire se quell'effetto bellissimo che vediamo nelle cellule e nei topi è possibile anche negli esseri umani no ok this is a clinical trial using doxycycline is an open window trial we treat patients with doxycycline before biopsy sorry before doxycycline we take the biopsy we assess the epoxy markers in the same biopsy and then we treat patients and we assess the same marker after doxycycline using the tissue that is being removed by surgical operation it's called open window and it's something that probably could allow us to see if any change of biomarkers that are involved in survival can be modulated presumably down regulated by doxycycline that costs 3 euros again this is a very strong message ok I like this for your stuff we can go ahead ok 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 good mark tonight a good mark so immunotherapy is ok ok immunotherapy is a new treatment that has been proposed for misotelioma misotelioma cells are particularly immunogenic but something happens and at the end of the day the immune response triggered by misotelioma cells is not strong enough something happens and we did realize that one of the things happening is that misotelioma cells to express a lot of B7H4 it's an error sorry protein that is something ampering doctoring immune response and so we need to inhibit this protein or we have to inhibit the ligand of this protein that is called ctly4 and that is expressing lymphocytes to restore an effective immune response that's what we did and this showed some efficacy in patients this is a patient with with a good response of a tumor mass with some toxicity and we published the paper it's a sort of Lancet oncology good paper but oh sorry no in Italian so le cellule di mesoteliano le cellule di mesoteliano è complicato non mai fa non mai fa ok allora le cellule di mesoteliano sono immunogeniche danno una risposta immune abbastanza che però non è completamente efficace c'è una proteina che sembra essere responsabile della mancata efficacia della risposta immunologica inibendo questa proteina e con un farmaco testato in un clinical trial abbiamo ottenuto le risposte ma bisogna essere chiari questo farmaco è estremamente costoso possiamo andare avanti human zapper please thank you è estremamente è piuttosto tossico questi pazienti sono sostanzialmente pazienti in ottime condizioni con poca malattia e la tossicità non è non è minima possiamo andare avanti ho appena sì questo l'ho pubblicato io ho appena pubblicato un lavoro su expert opinion on investigational drugs proprio sull'immunoterapia perché mi è stato chiesto che ne pensiamo perché qua nel nostro paese la pubblicità che qualcuno si fa a volte è veramente gratuita anche se io sono quello che posso dire essere il papà di questa cosa io per motivi etici devo per forza farvi vedere queste cose allora se io sono un paziente che ha il mesotelioma e non ha risposto alla chemioterapia e quindi se sono un candidato all'immunoterapia vado in un centro dove dicono che fanno l'immunoterapia e io chiedo queste sono esattamente le domande che ho scritto nell'articolo posso può questo trattamento migliorare la mia sopravvivenza la prima cosa che mi chiede questo farmaco è tossico posso essere trattato anche se ho malattia avanzata è un farmaco che ha un costo che il mio national system si può si può permettere o non c'è qualcosa che magari costa 3 euro che funziona anche di più ovviamente le risposte sono chiare nel senso non abbiamo nessun esempio non abbiamo nessuna dimostrazione seria che migliori la sopravvivenza migliora forse la qualità di vita nei responders ok ma non abbiamo nessun segnale che migliori la sopravvivenza è tossico che che se ne dica uno dei motivi per cui i miei rapporti con Medimune si sono a dir poco raffreddati è che ci sono stati due morti per tossicità su 29 sono tantissimi sono tanti tutti i pazienti selezionati sono selezionati perché avevano poca malattia molto poca malattia e i pazienti che vediamo che hanno già non hanno risposto alla chemoterapia hanno molta malattia e costa un occhio cioè questo farmaco una volta che venisse registrato costa una follia e se non aumenta la sopravvivenza perché un national system si dovrebbe accollare alla spesa di un farmaco di questo tipo a meno che loro non dimostri in maniera incontrovertibile loro perché io sono fuori da questo progetto avrete capito che aumenti la sopravvivenza ma me lo devono dimostrare con dei dati seri ma non funziona più eccolo là quello che vogliamo fare allora sostanzialmente per la signora lavoriamo sui marcatori sulla sinistra sui marcatori che sappiamo essere correlati davvero con la sopravvivenza e possono essere modulati da farmaci nel frattempo in mezzo facciamo genomica valutiamo se ci sono dei geni che ci possono essere utili a destra valutiamo se già con le correnti terapie la cosiddetta chemioterapia noi possiamo stratificare i pazienti e trattare solo quelli che potrebbero avere davvero risposta su un modello di predittività e non rischiamo tossicità inutili lavoriamo su cellule affidabili le linee cellulari non sono affidabili ci vogliono cellule fresche da paziente o ci vogliono ancora meglio cellule fresche da pazienti che siano cellule staminali questo è il nostro homework e stiamo lavorando su questo sostanzialmente insomma qualcuno ha citato Mark Twain prima o no Oscar Wilde allora invece Mark Twain diceva che se noi nei confronti del mesotelioma nei confronti di tutto nella vita credo continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto continueremo ad avere quello che siamo sempre avuto cioè 30% dei sopravviventi quando va bene o meglio di responders quando va bene con un miglioramento di sopravvivenza molto veramente risibile purtroppo e allora non fare come fa Teddy Bear scendendo le scale sta battendo la testa se solo pensassi un attimo e trovassi un altro modo per scendere andiamo avanti ok questo penso che siete tutti d'accordo andiamo avanti ancora ci tenevo solo e non mi tedio più qua è più per i politici diciamo allora abbiamo un'epidemia non lo diciamo a noi lo dicono gli epidemiologi gli statistici tutti i sistemi umani sono perfettibili figuriamoci quello del finanziamento della ricerca allora diciamo così come possiamo finanziare la ricerca con un modello che sia il meno ingiusto possibile il meno così il meno ingiusto direi il meno ingiusto come dovrebbe come la qualità dovrebbe drive oh mamma mia guidare ma guarda scusate non è dovrebbe guidare la 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 politica del finanziamento vi faccio tre esempi uno è l'NHR in the UK in England come on National Institute of Health Research ok hanno preso 4 milioni di 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 pounds per dalle litigations ok dalle dalle cause le hanno messi in un fondo nazionale l'NHR ha detto abbiamo 4 milioni di pounds per la ricerca sul mesotelioma che ne facciamo hanno mandato una bella letterina a 15 esperti nel mondo 15 o 20 che è tra cui meritatamente noi non è problema che stati come gruppo e dicevo quali sono secondo voi le priorità della ricerca sul mesotelioma ognuno di noi ha dato il suo giudizio loro hanno raccolto le proposte hanno bandito 3 grants 3 ok dando migliore di pounds l'uno questo purtroppo qualche anno fa e e hanno fatto un grant aperto a chi aveva a chi aveva a chi aveva chiunque poteva applicare in Inghilterra in questo caso e chi aveva e poi i progetti giudicati in cieco da una commissione esterna non inglese i migliori progetti hanno preso il grant opzione 1 opzione 2 il governo South Wales South Wales e Sydney e lo stato di South Wales avevano i sindacati ben eccolo ho anche conosciuto vabbè comunque c'era un signore molto attivo dei sindacati ha raccolto un sacco di soldi si è fatto dare altri soldi dal governo del South Wales in Sydney e ha deciso di aprire un centro di riferimento per i tumori d'amianto a Sydney che si chiama Asbestos Disease Research Institute che è quello per il quale fui chiamato alcuni anni fa e devo dire sono stato richiamato adesso perché è andato via il vecchio ma comunque non andrò e quindi hanno deciso di scegliere poi di fare un centro di fare dei bandi internazionali che sono usciti su Nature Jobs chiunque poteva applicare tra il direttore che viene scelto invece per la persona in base al curriculum e in base alla qualità dei ricercatori del lavoro specifico che avevano fatto hanno fatto uno staff e lo stesso fanno per i progetti bandiscono i progetti commissione esterna i migliori prendono i grant adesso arriviamo alle dolenti note allora io sono italiano amo il mio paese stimo il mio paese sarò sempre italiano in qualunque paese del mondo sarò però è altrettanto vero che vi devo dire quello che vedo allora a Casale Monferrato Alessandria un ministro della sanità mai compianto che più volte ha minacciato di denunciarmi sto aspettando che mi denunci ma non mi denuncia mai ha deciso in maniera totalmente unilaterale che dei fondi per la ricerca sull'amianto venissero distribuiti ad alcuni nessuno di questi personaggi che hanno ricevuto il denaro avevano un lavoro pubblicato sul mesotelioma uno uno sono riusciti persino a trovare qualcuno a Forlì che voglio dire ci vuole anche fantasia quando io ho detto ho dichiarato in seri pubbliche anche a giornali come Repubblico ho detto secondo me il ministro Balduzzi ha identificato gli esperti tra i suoi amici e mi deve dimostrare il contrario non me l'ha ancora dimostrato allora se i soldi in Italia vengono spesi così io sono felice di stare in Inghilterra perché io vorrei sapere di quei soldi lì cosa si è fatto io non l'ho ancora capito c'è stata una segnalazione al Corte dei Conti c'è stata c'è stata una denuncia in procura non lo sappiamo allora io credo che al di là dell'indignazione che è anche facile se vogliamo che è populista dove noi non dobbiamo mai cadere nel populismo ma proprio perché facciamo l'opposto che che se ne dica parlare di fatti non è populismo io vorrei capire se questa è una risposta seria a un problema veramente serio in particolare a Casale Moferato ma non solo io sto lavorando con la regione Friuli-Venezia-Giulia per fortuna Balduzzi non c'è cioè già dopo Balduzzi quindi non mi ha rotto e lavoriamo bene con la Friuli-Venezia-Giulia stiamo cercando di investire i fondi peraltro inferiori a questi in maniera più oculata su realtà vere ma il grosso della spesa sul mesotelioma e dell'impegno tra virgolette del nostro governo sul mesotelioma si è focalizzata su questa cosa ora io vi do questi tre modelli e poi ognuno se ne fa un'idea io sono abbastanza indignato ma vabbè cambia poco la mia indignazione cambia poco direi che però mai come in questo caso direi quella che viene che si chiama spinta dal basso che in realtà non è spinta dal basso la piramide è un po' rovesciata ma diciamo che i cittadini su questo tipo di cose dovrebbero essere davvero informati e chiedere che il denaro pubblico venga utilizzato in maniera meno insensata perlomeno ma senza far particolari polemiche cosa che peraltro noi abbiamo fatto in sedi anche pubbliche anche con interpellanza parlamentare se vi ricordo a cui chiaramente non è stata mai data risposta perché spiegateci i criteri obiettivi che vi hanno ispirato nel distribuire dei fondi quali sono io vi do il modello inglese vi do il modello australiano datemi il modello italiano scusate ma forse c'è ancora qualcosa questa è la nostra rete mi piace farla vedere in particolare in fondo quasi in fondo sopra la mia università in fondo a destra c'è l'università di Hawaii dove io faccio visita in professa una volta all'anno che non è male ok andiamo pure avanti allora io finisco davvero adesso vi ho tediato ci vuole un approccio multidisciplinare dobbiamo ricordarci questo nessuno è depositario della verità tutti ci possiamo aiutare facendo ricerca dobbiamo cambiare completamente quello che abbiamo fatto finora perché è stato un errore abbiamo fatto una serie di errori mutuati da altri tumori e questo ci può aiutare a fare screening e ci può fare ci può aiutare a fare clinical trials che abbiano un end point così dire cioè io voglio testare se il mio farmaco aumenta la sopravvivenza dei miei pazienti che li riduca la lesione e che non migliora la sopravvivenza a me non importa niente neanche al paziente sostanzialmente dobbiamo fare grants che siano quality driven che significa basati sulla qualità che sia e che su una open competition su una competizione aperta e giusta di ogni grant ai migliori progetti ma beh siamo una cosa talmente semplice che è quasi rivoluzionaria ho finito però ci tengo a ricordare i collaboratori di tutto questo grande lavoro tanto per dire quanta gente poi ognuno dal piccolo contributo sia a Genova Daga che Roberto Favoni se tu mori a Genova Dean Fenner a Leicester Shuka Dedar a Vancouver Biffo e Grosso che sono adesso l'Università di Milano non più a San Raffaele invece Stefano Grosso è a Leicester anche lui Bruno Muro a Venezia che è il nostro patologo e Steven Marciniak che è il clinico di Cambridge che lavora con noi Michael Lisanti e Federica Soggia che abbiamo rubato al Paterson Institute e stanno lavorando con noi cominciano adesso quindi siamo molto contenti che sono due ottimi ricercatori Glenn Reed e Nico Van Zagui in Sydney e sua maestà Carlo Croce in Ohio io avrei finito scusate grazie ho cercato di non farvi addormentare io ringrazio i nostri relatori è stata sicuramente una conferenza molto interessante e importante il tema ma soprattutto gli approfondimenti quindi lascerei ancora un attimo la parola a loro se il dottor Pucco vuole aggiungere qualche cosa sulla domanda che avevano fatto e poi ancora spazio per le persone che vogliono fare domande anche io ne avrei una piccolina non so se conviene andare in ordine la signora ce la raccogliamo raccogliamo le domande raccogliamo magari tutte le domande così poi c'è un'unica risposta prego grazie intanto allora io sono Fabrizio Gallo sono consigliere comunale Movimento 5 Stelle a Novi Ligure e faccio un attimo un ragionamento più ampio partendo dalla prima parte del convegno in effetti è vero noi abbiamo un dramma non un problema che è quello della gestione dell'amianto e abbiamo l'eredità di tutto quello che è stato fatto nei decenni passati di quello che è uscito ora ma soprattutto di quello che dovrà ancora uscire perché a Casale Monferrato in realtà che noi come Alessandrini conosciamo particolarmente bene sappiamo che da dieci anni a questa parte si muore ogni settimana qualcuno muore di mesotelioma pleurico ci sono anche altre altre città dove si muore di amianto perché anche da noi a Novi Ligure recentemente due dipendenti dell'Ilva sono morti di mesotelioma nel giro di pochi mesi sempre per vecchie presenze di amianto dell'asbesto nelle lavorazioni precedenti non voglio pensare a quello che succederà perché forse siamo ancora alla punta dell'iceberg perché al di là di situazioni drammatiche come quelle di Casale c'è ancora tutto quello che dovrà arrivare per l'uso indiscriminato che è continuato anche quando già si sapeva sia la conoscenza di tutte le difficoltà tutti i rischi relativi all'amianto eppure si è continuato ad utilizzare ma anche a comprare come diceva Tiziana all'inizio allora io molto velocemente credo intanto che bisogna anche fare un'azione che vada a colpire le responsabilità del passato e del futuro perché prima è stato citato Stefano Schmidaini proprietario dell'Eternit ed è tanto per dirne uno al di là del fatto che è stato prescritto recentemente è stato pubblicato un libro che racconta tutta la storia del processo e Stefano Schmidaini ha ottenuto che il libro non venisse diffuso e questa è solo una vergogna no? e se continuiamo ad avere poteri forti che hanno la possibilità di vietare la diffusione dell'informazione forse non ne usciremo mai no? non lo so la lotta la facciamo tutti assieme su questo come su tante altre cose allora io poi molto velocemente volevo fare un ragionamento si è detto prima che non è la sede del parlare del come smaltire l'amianto dove c'è io però volevo buttare lì una considerazione noi abbiamo situazioni dove abbiamo pregresse per l'amianto presente ancora da smaltire e da bonificare abbiamo quelle poche discariche di amianto che ci sono sul territorio italiano e già abbiamo visto prima dall'esposizione dove quello che è stato fatto finora è veramente una percentuale minima di tutto quello che c'è da fare la mia provocazione è dobbiamo ulteriormente continuare a produrre fattori di rischio facendo lavorazioni o opere che continuano a creare l'amianto perché è all'ordine del giorno anche il fatto che così come relativamente la canteristica dell'infrastruttura in Valsusa ma anche dalle mie parti per quanto riguarda il terzo valico ma anche la semplice realizzazione di un metanodotto sono state trovate percentuali di amianto folli ora le hanno trovate ma si sapeva già da prima perché erano già state abbondantemente comunicate e in questo momento un'opera è ferma non perché stanno cercando di capire come realizzarla in sicurezza stanno cercando di capire come risolvere sempre nel solito modo probabilmente con l'adozione di qualche protocollo generico che serve solo a poter fare una conferenza stampa e dire abbiamo risolto un problema quando non è così quindi io volevo anche un commento su è il caso continuare a creare visto che non riusciamo non riusciamo ad affrontare le problematiche del passato è il caso di continuare a crearne altre che lasceremo in eredità e produrranno nuovi drammi nel futuro grazie grazie io sono Carlotta Trevisan consigliere comunale del comune di Rivoli che è bassa Val di Susa e mi riallaccio proprio al discorso che ha fatto adesso il collega Gallo perché noi come amministratori abbiamo una responsabilità cioè da noi probabilmente a breve arriverà tutta la terra della Val Susa Rivoli sarà utilizzata per questo come faccio io a tutelare i miei cittadini e a prevenire qualcosa sapendo che in Val di Susa si è trovato dell'amianto e che questo benedetto tunnel geognostico dovrebbe servire per capire se ce n'è ancora se ce n'è e che cosa bisogna fare proprio in merito ai due emendamenti che sono stati approvati e di cui ringrazio personalmente il lavoro sia dell'onorevole Beghin che dell'onorevole Gea perché è un risultato pazzesco cosa possiamo fare noi come amministratori locali possiamo fare un ordine del giorno una mozione che impegni i nostri sindaci a collaborare con l'istituzione europea in modo da avere un monitoraggio di questo di questo problema grazie mi riallaccio anche un attimino a quello che ha detto la collega Carlotta Trevisanne dunque io sono Giuseppe Levato sono un consigliere comunale a Bruino un piccolo comune della provincia di Torino e mi riallaccio un po' a quello che è stato detto all'inizio di questa conferenza cioè che in Italia ci sono ancora oltre 30 milioni di tonnellate di amianto ma la cosa più grave è ovviamente che il nostro paese continua ad importare amianto e quindi è un po' come un cane che si morde la coda non finirebbe mai per fortuna è stato approvato questo emendamento però sappiamo che l'emendamento approvato per eliminare bandire diciamo l'amianto in tutta Europa queste leggi diciamo dell'Unione Europea in Italia vengono recepite con enormi ritardi e vengono rimandati sinedie allora cosa possiamo fare ecco quindi ecco perché mi riallaccio un po' a quello che ha detto la collega Trevisan cosa possiamo fare noi amministratori per cercare di fare pressione nei confronti del governo perché recepisca quanto prima le direttive dell'Unione Europea e quindi ponga fine a questa importazione di amianto che comunque è causa di continui morti grazie grazie io sono Merlin Anna sono consigliera del comune di Cumiana provincia di Torino si è parlato molto di bonifica degli edifici edifici pubblici quello che io volevo sapere visto che sono state realizzate molte opere di reti idriche di tubazioni di reti idriche dell'acqua potabile quindi dell'acqua che sgorga dai nostri rubinetti e che noi beviamo noi del Movimento 5 Stelle in particolare ci battiamo molto sul fatto di non comprare l'acqua in bottiglia ma di bere quella che esce dal nostro rubinetto ci dicono anche che non c'è correlazione tra quello che è l'ingestione delle fibre ma che le fibre sono in realtà dannose solo per inalazione quindi questa è una domanda già se esiste una mappatura di quelle che sono le tubazioni idriche del nostro sistema e se non si può in questo caso noi abbiamo SMAT come distributore distributore dell'acqua se non si può chiedere visto che adesso c'è un rinnovo e stanno chiedendo di fare un ulteriore piano d'ambito quindi di fare altri investimenti se non si può obbligare noi amministratori a mettere una parte di queste sovvenzioni e obbligare SMAT a bonificare quelle che sono parte delle tubazioni ancora esistenti sul nostro territorio in cemento maianto allora sposando la tesi del dottor del professor Mutti sul fatto che le cure debbano essere individualizzate e pertanto non si può propinare sempre ammesso che funzioni io da essere i dubbi chemio e radio e ce lo diciamo da un sacco di tempo sì manco quello ma in generale rispetto io dico a tutti i casi di tumore non solo in maniera specifica dell'amianto non si potrebbe visto che tra l'altro un boccetto di chemio costa allo stato italiano tra i 5.000 e gli 8.000 euro 30 pastiglie e quando si valuta che comunque la situazione soprattutto nel caso dei mesotrioliomi eccetera non lo richiede cioè è stupido anziché migliorare le condizioni e la lunghezza di vita di un paziente gli elisi pieggiora e probabilmente gli si accorcia questa vita proporre alternative perché di alternative ne abbiamo ne nomino una ma ce ne sono 100 ad esempio la terapia di Bella collaudata anche da me non da me personalmente però sperimentata su persone che conosco ma quella come può essere un'altra ad esempio in tanti paesi dell'Europa si parla di alimentazione corretta per chiunque sia malato di tumore mentre da noi questo non viene neanche considerato adesso lo Stato italiano ha tagliato per altri 2 miliardi e mezzo sulla sanità non sulle multinazionali ovvero sui farmaci o su altre cose ha tagliato nella diagnosi quindi ci paghiamo radiografie TAC esami del sangue e questo va addirittura contro la salute del cittadino esiste un articolo della Costituzione che garantisce la libertà di scelta delle cure ma se noi non abbiamo nemmeno le informazioni ovvero le opzioni di scelta io chiedo che venga proposta un'interrogazione in cui si si faccia uno informazione e che davvero si propongano ai pazienti le alternative perché comunque esistono allora a chemio si può paragonare una simile quantità di vita però con qualità migliore semplicemente agendo sull'alimentazione molto alcalinizzante non è uguale per tutti però valutando ad esempio caso su caso con l'integrazione ad esempio della terapia di Bella ma di altre terapie c'è la ricercatrice Signorelli che ha isolato la molecola della RN3 su cui si può comunque lavorare anche su quel fronte ci sono c'è l'idroterapia l'adroterapia non l'idroterapia l'adroterapia che si sta sperimentando con successo ad esempio a Padova io dico semplicemente che tra continuare a somministrare un boccetto di chemia 8.000 euro e esempio la terapia di Bella a 800 euro al mese c'è una bella differenza e il disavanzo come diceva il dottor Mutti potrebbe essere tranquillamente utilizzato per fare ricerca e finalmente dare una risposta in maniera definitiva ripeto ci sono ad esempio a livello medico in determinate situazioni in tipi di tumore non particolarmente aggressivi o pericolosi e si può semplicemente lavorare sul riequilibrio della pompa sodio-potassio o sull'alcalinizzazione del corpo addirittura per ottenere la cicatrizzazione dei tumori stessi cioè io a volte penso che questo è un genocidio cioè nel senso noi stiamo uccidendo le persone non le stiamo salvando non stiamo migliorando davvero le loro condizioni di vita perché bisogna andare a lavorare con ciascun paziente non siamo tutti uguali non rispondiamo allo stesso modo alle cure alle varie cure mediche che ci possono proporre è la stessa cosa che succede io sono insegnante è la stessa cosa che succede a scuola devi proporre diversi metodi sarà il bambino poi a scegliere la sua strada e a capire come risolvere il problema la medicina è uguale non esiste la soluzione è uguale per tutti se no saremo a cavallo quindi se noi individualizzassimo i percorsi di cura risparmieremo un sacco di soldi e anziché come ha fatto il nostro governo con Renzi tagliare proprio sulle diagnosi che è quello che invece bisognerebbe potenziare rimettere lì e rimettere soldi nella ricerca però proprio c'è interrogazioni se si può fare questa cosa sarà difficile trovo grazie vi chiedo solo di essere un pochino brevi teoricamente dovevamo lasciare la sala 20 minuti fa quindi finché non ci mandano via rimaniamo però se riusciamo condensiamo c'è la prima una persona dietro poi buonasera a tutti sono Alessandro Chiappetto consigliere comunale di Rivarolo Canavese provincia di Torino tre veloci domande una tecnica ed è di mia ignoranza il tempo di decorso della malattia del melosidotelioma medio quale potrebbe essere in virtù della seconda domanda che faccio come Movimento 5 Stelle in diversi comuni abbiamo proposto all'amministrazione di istituire il registro tumori comunale che ovviamente dovrebbe prendere i dati ovviamente dalle ASL di competenza esiste comunque già un registro tumori legato in particolar modo al mesotelioma comunque generale ma dove si identifichi il mesotelioma perché poi questo potrebbe consentire di individuare eventuali siti in base a zone che vengono macrozone che potrebbero essere individuate e invece una terza domanda relativa ai fondi di cui si parlava prima del ministro Balduzzi giusto questi fondi erano fondi si parla di fondi italiani fondi europei e ah e la domanda infatti la domanda è ma adesso faccio questa infatti è un po' rivolta alla Begin a Tiziana se le interrogazioni che sono state fatte o che ho capito bene sono state fatte qui in Parlamento europeo sono state fatte giù dai nostri parlamentari a Roma quindi ci sono già state le interrogazioni a cui non è stata data risposta quindi sia verbali sia scritte non c'è nessun ok questa è già risposta grazie prego buonasera sono Francesco Colucci io sono sanitario quindi sono pienamente consapevole cosa voglia significare morire purtroppo con la fame d'aria ma oggi il ruolo non è quello del sanitario o meglio a sentire il professore insomma ho una posizione diciamo terziana in attesa che voi aggiustate mi pongo mi pongo il problema come amministratore lasciate stare il professore che è imbarazzante no vabbè dottore penso che sia irrilevante da questo punto di vista quindi mentre lei appunto appartiene al mondo degli aggiustatori cerca di capire per aggiustare il danno io come amministratore mi devo porre il problema per come incidere nella prevenzione dei futuri casi io vengo appunto da un comune di 18 mila abitanti quindi non un piccolo paesino in cui noi abbiamo una scuola materna una scuola materna che nasce con l'amianto e a un certo punto viene diciamo loro dicono messo in sicurezza diciamo stabilizzando questo amianto allora voi capite che per me è molto frustrante assistere insomma l'azione politica che decide di fare un nuovo municipio quindi investire le risorse pubbliche per un nuovo municipio e non calendarizzare invece la nascita come dire di una nuova scuola materna in sicurezza allora io ritengo che debba essere introdotto una responsabilità politica delle scelte perché se noi non diamo al cittadino la possibilità di rivendicare il diritto negato alla messa in sicurezza non ce ne usciamo fuori quindi mi piacerebbe avere come amministratore ahimè all'opposizione degli strumenti affinché si possa dire no tu non la fai questa nuova opera se non prima elimini queste diciamo queste lo dico anche perché noi a Torino siamo a Reduce diciamo del diciamo dei a un certo punto Palazzo Nuovo sono stati evacuati diciamo i locali allora mi chiedo cavolo abbiamo l'esempio del Palazzo Nuovo che a un certo punto era in sicurezza e poi a un certo punto hanno svuotato le aule e sono partiti i lavori mentre nel mio comune abbiamo ripeto scuola materna quindi vuol dire bambini da 3 a 5 anni cioè veramente dei insomma un'età molto particolare quindi la mia domanda è se avete pensato a blindare i soldi investimenti in quelle amministrazioni in cui risiedono di solito sono scuole purtroppo piene di amianto grazie grazie io sono Roberto Campana consigliere comunale di Verbagna e anche da noi c'è processo in corso su Montefibre che ha fatto le sue vittime voglio fare una domanda al dottor Rucco e poi alcune a Mutti e facendo i complimenti per la passione che date nel vostro lavoro allora noi stiamo portando avanti un discorso di trasparenza delle acque cittadine in consiglio comunale per far sì che il cittadino consumi l'acqua pubblica non con l'imbottiglia però ci siamo imbattuti in analisi delle acque non tanto rassicuranti nonché alte concentrazioni di arsenico quando ha parlato della bonifica di alcuni impianti ha parlato di concentrazioni di arsenico cloro e mercurio e volevo sapere in quale modo è correlato al discorso amianto e se queste concentrazioni poi pian piano per quanto riguarda soprattutto le falde sono destinate a calare oppure rimangono lì e quindi bisogna fare delle bonifiche premesso che non sono un addetto ai lavori una domanda alcune domande per il dottor Mutti lei ha parlato del tumore come una malattia genetica e allora una domanda un po' utopistica se a livello nazionale pensabile fare un censimento del patrimonio genetico in alcune aree più sensibili a queste problematiche quindi fare uno screening iniziale per prevenire a monte e anticipare quello che potrebbe esserci quindi prevenire sistematicamente l'ultima domanda che però esula da tutto questo ragionamento però quando citava della sperimentazione ahimè dalle nostre parti ci sono alcune frange che vanno contro la sperimentazione animale non c'entra niente ma mi chiedevo se voi come addetti ai lavori ritenete che sia utile comunque sia per alcuni casi continuare con la sperimentazione animale come indispensabile per la sopravvivenza anche dell'uomo mi scuso se è fuori tema però ahimè ci tocca politicamente che mi vede in alcuni scontri grazie sì sono Caccia Luigi buonasera e sono assessore al comune di Rivalta Bormida ci abitiamo molto vicino lo stesso comune dell'euro parlamentare volevo chiederle una cosa cosa si fa in più politica forse che della medicina in quanto mi leggo al al signor Gallo lo smarrino del terzo valico viene tutto probabilmente portato nella futura discarica che si farà nella nostra zona a Sezzadio su una su una oltretutto sotto c'è una delle falde più ricche di acqua di tutto il Piemonte volevo sapere l'Europa ha sicuramente delle leggi che contraspongono questo però realmente non si riesce ancora a fare nulla e probabilmente questa discarica si farà cosa quali saranno i danni sicuramente danni ce ne saranno in futuro e cosa politicamente si pensa di fare per ostacolare questo evento grazie poi dobbiamo veramente chiudere velocemente con le risposte perché lo streaming sta per abbandonarci grazie sono Alessandro Di Piero sono consigliere comune alla Grugliasco la mia è una domanda di natura più che altro politica riguarda forse quello che è stato potuto fare quello che si è riuscito a fare finora con il Movimento 5 Stelle qui in Europa la mia domanda viene dal fatto che ad esempio nel mio comune hanno inserito alcune aziende che processavano l'amianto e che quindi al termine delle loro lavorazioni al termine di queste aziende quando sono state chiuse per motivi appunto storici hanno lasciato comunque la loro scia di morte com'è possibile che visti i tempi di diagnosi di manifestazione di sviluppo delle malattie che queste persone riescano ad avere giustizia almeno i loro familiari senza che intercorrano nel mentre fenomeni ad esempio che vada in prescrizione alcuni fatti o che è semplicemente responsabili per siano impossibilitati perché anche loro saranno morti quindi permettere che queste persone abbiano poi effettivamente giustizia e risarcimento almeno i loro familiari cioè quindi come queste azioni politiche che sta conducendo il movimento in Europa abbiano poi un risvolto pratico un'utilità pratica e questo visto anche come è messa l'Italia come siano bandieruola insomma grazie sì buonasera sono Sara Di Sabato consigliera comunale di Collegno la mia domanda riguarda soprattutto l'attuale sistema di smaltimento dell'amianto allora noi a Collegno abbiamo una discarica di rifiuti speciali che si chiama barrica all'SPA nella quale confluiscono diciamo i rifiuti speciali in prevalenza amianto da tutta la cintura torinese adesso la mia perplessità già riguardante al sotterramento che riguarda già il sotterramento dei sacchi nella quale viene rinchiuso questo amianto che mi pare non subisca nessun trattamento di stabilizzazione mi preoccupa un pochettino nel senso io mi vedo magari in un'ottica futura un comune o comunque un governo a 5 stelle che si dovrà scontrare con i problemi creati dalle precedenti amministrazioni quindi questo sistema che io ritengo soprattutto pericoloso perché ci saranno sicuramente problemi riguardanti il percolato il dilavamento magari la rottura dei sistemi di guaina delle discariche perché si parla comunque di abbandonarla a breve ecco questa discarica proprio perché piena ecco noi come come amministratori come possiamo controllare appunto gli sviluppi anche in un'ottica futura di queste come possiamo monitorare scusa come possiamo monitorare la situazione futura e come possiamo intervenire poi appunto in un'ottica di qualche anno dopo per contenere magari la perdita o contenere i disagi che arriccheranno queste discariche anche perché loro da quello che hanno detto l'amianto dopo 50-60 anni perde di pericolosità adesso a me questa cosa qua non risulta loro dicono tra 50-60 anni non vi preoccupate che tanto la discarica rimane là l'amianto non sarà più non sarà più dannoso e questa è stata la risposta che ci hanno dato l'ambiente non sarà più dannoso per cui sarà un problema che non sussisterà ecco invece noi che cosa potremmo fare per diciamo prevenire i problemi derivanti da questo metodo di smaltimento andiamo il via a rapidi domande alle risposte lascerei gli oratori e io faccio poi una piccola conclusione Precchi dottore anche se non vuole essere da quello che ho capito noi quotidianamente cerchiamo di contrastare la casta politica che cerca di fare il buono e il brutto tempo ma da quello che ha detto lei prima penso che esista anche una casta farmaceutica che spove praticamente i fondi a loro piacimento affinché voi non riusciate poi a scoprire nuove possibilità per poter salvare le persone magari spendendo il meno possibile non è così rispondo subito poi io spiego anche se vuole spiego anche per scoprire bene perfetto allora lasciamo la parola al dottor Rucco varò per flash perché gli argomenti sono tanti mi esitrebbero di essere ulteriormente approfonditi cominciamo dalle discariche l'amianto c'ha qualche miliardo di anni come fa a deverirsi in 40-50 anni quello che è certo è che le lastre di Eternit quelle che ci sono in circolazione hanno 25-30 anni quelle rilasciano 4 grammi di amianto tutti gli anni per il naturale di lavamento quindi pensate che tipo di inquinamento ambientale c'è da questo punto di vista ecco questo è un ragionamento il problema delle discariche è un problema enorme dalla Sicilia fino alla Toscana c'è sta una discarica in Puglia e una in Molise in grado di accogliere l'amianto probabilmente è una scelta politica perché poi in Toscana ce ne stanno 8 quindi Toscana parlo della zona della Garfagnana che ogni 2 primaveri cade frana tutto lì sapete come funziona quindi io l'ho detto per inciso nel mio intervento questa problematica le alternative alla discarica l'Unione Europea è stata chiarissima ha detto che probabilmente andranno riscavate cioè voi immaginate un paese come il nostro la risoluzione che ho citato prima ha detto che non è definitiva come soluzione e che significa che bisogna ritirarlo fuori immaginate un paese come il nostro che sono dieci anni che ha fatto una legge in cui c'è scritto la 248 del 2008 in cui c'è scritto che il ministero dell'ambiente deve dare le norme per cui possano essere infatti gli impianti di modifica della struttura microrristallina dell'amianto cioè l'inertizzazione per capirci e lo stesso ministero sono dieci anni che ancora non le fa cioè questa è l'azione politica che va fatta poi arriva il signor Balduzzi che non è che lui è fatto solo il ragionamento che ha citato prima il professor Mutti ha messo in piedi un piano nazionale amianto per dare soldi agli amici agli amici per continuare a far credere in tutta Italia che il problema dell'amianto sta solo a Casale Monferrato mi dispiace perché siete quasi tutti torinoesi però purtroppo non sta solo a Casale Monferrato no? ecco e soprattutto i suoi stessi i suoi stessi tecnici hanno denunciato cioè se io ero Balduzzi prendevo quel piano nazionale amianto che ha fatto lo portavo dal magistrato e facevo arrestare tutti quanti porca miseria ma tu mi dici che le discariche non ci stanno e non funzionano che ci sono problemi di infiltrazione mafiosa che mancano a pezzi dello Stato non fanno il loro dovere cavolo fai qualcosa cioè questa secondo me è una battaglia politica più che le singole battaglie fatte in tutti infatti in tutti i paesi l'acqua l'acqua potabile l'acquedutto ma questa a parte che non è dimostrato che l'amianto ingerito per via orale faccia bene no non è ecco io sono del parere come tutti come tutti l'ho detto gli agenti tossici e nocivi penso che comunque fanno male ci sono studi che dimostrano che c'è un'incidenza anche di tumori pulmonali di tumori renali e tumori e tumori vescicali che chiaramente hanno una multifattorialità per cui non può essere identificato come il mesotelioma il rapporto quasi uno a uno però voglio fare un altro ragionamento molto semplice da stupido ma l'acqua io mica la bevo solo invece faccio la doccia se ci sono delle particelle dentro le respiro l'acqua che sta nei cassoli nei vasi che metto nelle piante e che rimane lì nel vaso e evapora ma non emanna non manda fibre in circolazione quando faccio l'irrigazione a pioggia faccio l'irrigazione a pioggia per abbattere le polveri dell'amianto appena l'acqua si è asciugata cioè quindi torno a ripetere io l'ho detto non facciamo che dietro l'allarme al lupo al lupo di Pierino poi se nascondano tutta una serie tutta una serie di problematiche di natura differente il terzo valico per terzo valico noi ci abbiamo avuto l'onore di avere al nostro convegno che abbiamo fatto alla Camera dei Deputati una forte delegazione di persone che sono venute e noi lì in quella sede oltre a fornirgli la consulenza su quello che potevano fare abbiamo dato anche spazio e voce su questa cosa abbiamo il nostro professor Giancarlo Cazio che io ho citato prima che nonostante i suoi 83 anni va sistematicamente in mezzo ai boschi con apparecchi a misurare la presenza di fibre di amianto nell'area smossa dallo smarino lui ha calcolato che nei prossimi dieci anni sull'intera provincia di Torino ci sarà una percentuale di amianto di 3500 non so cosa di unità di misura nell'area rispetto al 30 che c'è nel resto d'Italia cioè questi sono i discorsi ma queste cose devono passare attraverso la diffusione dell'informazione perché io l'ho detto dall'inizio la battaglia dell'amianto la battaglia della tossicità è tutta una battaglia di informazione se non si parla non si fanno sapere queste cose rimangono inotave che sono quelli che non vogliono nell'opinione pubblica non nella loro scelta che sono quelli che non vogliono il progresso ricordatevelo Giordano Brun è stato bruciato per questo perché non voleva il progresso gli hanno detto così quindi questo è il discorso a Carpi se avete poi il piacere ci sono amici vostri del Movimento 5 Stelle che hanno portato avanti la battaglia c'è Andrea Rossi che proprio in questi giorni ha ottenuto dei risultati proprio in Consiglio Comunale quindi facciamo pure rete e facciamo pure funzionare queste cose perché magari ci sono tante strade per poter contrastare adesso mentre stavo qui qualcuno che ci sta seguendo mi ha mandato una comunicazione di agli amministratori che c'era legge del 30 agosto 2008 che io non conosco che può essere attivata no? quindi queste sono sono le cose sì sì le mappature mappature le scuole ma basta andare all'ASL e chiederlo perché cacchio bisogna far lavorare le cose che già ci stanno la legge 626 è del 2003 e ha imposto a tutte le aziende pubbliche e private di fare la rilevazione e la valutazione del rischio presente nell'azienda il rischio amianto è noto dal 1992 quindi una scuola una scuola che ha la tettoglia di amianto piuttosto che l'impermeabilizzazione fatta con col pavimento la coibentazione qualunque cosa deve necessariamente aver messo nel suo documento di valutazione del rischio la presenza di quell'amianto e deve necessariamente aver indicato come lo tratta e quando lo vuole rimuovere se si può essere rimosso cioè quindi basta andare all'ASL fare accesso agli atti prendere questi documenti ma questo vale per tutto cioè noi stiamo spendendo i miliardi a Casale e Monferrato sono sette volte che fanno la mappatura dell'amianto cioè è una presa per il culo scusate il francesismo no? sette volte che su una cittadina che quanti abitanti fa a Casale cinquantamila settantamila trentamila sette volte che fai cioè ma ormai lo sanno puri sassi tosta l'amianto noi continuiamo a finanziamento del dottor Baduzzi questo nell'ultimo piano nell'ultimo piano ho parlato io con l'assessore ma che dobbiamo fare? ho capito però cioè voglio dire ci sono i sistemi per trovarla per trovarla il grosso dell'amianto no? ci sono i sistemi e poi si possono dare delle priorità a questo punto su dove intervenire sulle cose pubbliche insomma questo dicono faglielo mettere l'iscritto e poi mandala tutta quanta la magistratura scusami no? perché questa è l'altra strada allora giustamente l'onorevole ci diceva noi come comunità europea possiamo come unione europea possiamo fare poco sul terzo valico perché non si è verificato un danno cioè c'è solo una presunzione di danno allora a questo punto ci sono altri strumenti l'ordinamento ce ne dà civili e penali no? quindi io faccio un bel esposto ben documentato alla magistratura faccio intervenire il magistrato che chiude il cantiere in attesa di accertamenti e ho capito e l'ho capito però la strada è quella cioè non è che ce n'hai un'altra la strada è quella capito? cioè non è che puoi fare in un altro modo a meno che poi non ti metti con i fainiti di metragliatrice intorno al cantiere e ti metti lì e spari a chi si avvicina insomma ma non mi sembra proprio la... no? ecco ah sì questa mi sono di me no allora per per quanto riguarda il l'inertizzazione del dell'amianto in generale torno a ripetere questa del professor del professor abbiamo fatto un convegno due convegni anche insieme l'ultimo a Bari quest'estate è un'idea buona e funziona anche dal punto di vista sperimentale non c'è la possibilità ancora perché manca quella benedetta legge di averci l'impianto pilota capito? ecco un'altra comunicazione che mi è arrivata è che hanno già preparato tutto e questo fortunatamente sembrerebbe vicino a voi probabilmente dalle parti di Asti o compagnia bella stanno facendo qualche cosa del genere e qualcosa del genere stanno pensando di farla in Puglia quindi sono notizie però ecco che necessitano di essere e poi di avere le gambe queste cose no non dovrebbero pagare perché tra parentesi il genere del latte sembra che sia un rifiuto quindi devono pure smaltirlo come altri come altri come tra parentesi il professor Roveri adesso mi viene in mente che è lui che ha brevettato questo ha ipotizzato anche che possa essere fatto con altre sostanze di scarto acide quindi andrebbe pure a migliorare l'ambiente da altri punti di vista però torno a ripetere se mancano i criteri con cui deve essere costruito ma lì basta di chi non si sa neanche chi dovrebbe fare i controlli capito cioè ma sono cose banali che metti un ragazzo di vent'anni che ha il minimo di esperienza di quello che funziona il minimo di capacità di capicolo come funziona all'interno dell'apparato dello Stato i vari organi quindi un bel laureato in economia politica ce la fa a farlo un decreto del genere insomma non è che ci vuole sta scienza che dieci anni il ministero dell'ambiente che sta bloccato su questo insomma ecco questo è quello che dico io quindi Casale Monferato è importante ci sono tanti morti è una città martile ma non è la sola c'è Broni c'è Biancavilla c'è Biancavilla insomma c'è lì c'è Monfalcone tenete presente che secondo me io ho parlato prima di Picco fino al 2030 dove poi dovrebbe diminuire quella di esposizione di origine professionale però noi nel frattempo stiamo creando le condizioni non solo per lo smarino del terzo valico e del tunnel geognostico ma perché abbiamo migliaia di metri quadrati di Ethernet esposti alle intemperie incurati stiamo creando le condizioni per fare una pandemia basta è lo stesso problema di tutte le discariche non soltanto purtroppo quando c'è l'installazione di uno stabilimento che non rispetta poi le norme di smaltimento corretto l'inquinamento in quella slide poi se vuoi te la faccio vedere da vicino è altissimo ma per il terreno che c'hai sotto lo stabilimento o in prossimità dello stabilimento poi questo si disperde nelle acque e nelle falde acquifere c'è stato per esempio il caso della Valle del Sacco se voi non l'avete mai sentito parlare la Valle del Sacco che si sono accolti dopo che è stata chiusa la BTP la BTP la Bompini parò di Delfino quella che faceva il DDT negli anni 50 e 60 che si sono accorti di quello che succedeva un pochino di tempo fa perché è cambiato l'amministratore delegato della centrale del latte di Roma è diventato un certo signore che era stato amministratore prima della Bompini parò di Delfino e quindi ha cominciato a far fare delle analisi particolari al latte che veniva da quella zona e quindi hanno impedito ai produttori del latte di conferire il latte a centrale perché era pieno di esecolo aspettate c'è un nome lunghissimo comunque era prodotto di scarto del DDT a distanza di 50 anni aveva infiltrato tutto non è che c'è una possibilità di levarlo una volta che c'è quando fanno la bonifica che costa 770 milioni loro raschiano il primo strato del terreno lo portano all'altra parte però dove lo appoggiano può essere che sotto c'è una falda acquifera che rifornisce milioni di persone spostano il problema lo mettono sotto il tappeto il problema è quello che dicevo dall'inizio che non mi stancherò di ripetere bisogna pensarci prima bisogna pensarci prima fare una valutazione se quello se quello che stai facendo vale la pena di essere fatto ma ripensate allo stabilimento per inciso su quello che ho fatto uno stabilimento come quello dell'eterno di Priolo è durato 40 anni sta creando danni per secoli cioè ripensiamo a quello che stiamo facendo complessivamente posso solo dire rispondere perché diciamo siete stati fossero sempre così a far domande ci sono sacco di domande parto sono telegrafico la signora parlava di di terapia tra virgolette complementari ma le terapie complementari per certi in certi istituti di cancer center così sono già ci sono vengono fatte sì ci sono bisogna stabilire sarebbe importantissimo che lo stato delle cose gli oncologi italiani non solo e questo va però purtroppo più per gli italiani seguissero le linee guida internazionali e che le linee guida internazionali fossero conosciute sarei già contento e le linee guida internazionali in genere quelle serie comprendono il costo beneficio cioè anche il costo del farmaco anche se sul discorso del costo del farmaco le aziende farmaceutiche ovviamente vi faccio un esempio per tutte il platino gencitabina funziona come platino per metterset ma in Italia in particolare la gencitabina non è considerata uguale al per metterset perché costa un decimo e quindi a faccia se non ci sono le case farmaceutiche che incidono sulle scelte ma qui sta anche all'etica personale di ognuno non starci cioè cercare magari se vogliamo la toxicicina da 3 euro che non sarà la panacea ma comunque costa 3 euro e chissà magari funziona o qualche analogo funziona abbiamo degli analoghi che funzionano sembra come quella o anche di più anziché fare l'immunoterapia che per la quale comunque la Made in Moon è giusto che lo sappiate dà 65 mila dollari al paziente che viene arruolato e capisce che con 65 mila dollari al paziente perché non bisogna arruolarlo non a me non li è andati a me purtroppo per quello sono invidioso per quello quindi sì teniamo conto di tutto teniamo conto delle linee guida fatte bene diciamo a tutti di studiarsele innanzitutto e poi teniamoci aperto a qualunque cosa io ci sono un sacco di miei pazienti che prendono che vada dal veleno di scorpione all'aloe tutto ma io non dico ma guardate io prendi quello che volete io quello che non vi posso dire è che interazione c'è con i farmaci tradizionali però prendetela io non sono ma se i figuri si ma trovi il giudice come che ci vogliono insomma in Italia le linee guida sul mesotelioma Balduzia ha chiamato i suoi amici tutti insieme e ha detto dobbiamo decidere le linee guida e questi qua per acclamazione per acclamazione ha detto che si tratta così il mesotelioma noi ci siamo mettendo tre anni delle due l'una o loro sono geni sono geni e noi idioti non lo so capito e se andiamo avanti dalla diagnosi è 12-18 mesi la prognosi c'è un registro mesotelioma in Italia sì c'è già che ci fa vedere i cluster è quello che ad esempio è identificato il cluster di Biancavilla che poi è flore denita non è proprio amianto in realtà è amianto ma se lo chiamiamo amianto scoppia un gran casino allora lo chiamano flore denita ma in realtà è amianto sul sito dell'Inail ma io credo che c'è l'istituto superiore di sanità ce l'ha un registro nazionale ce ne sono diversi anche le regioni ci hanno sì sì ma l'istituto superiore di sanità è un registro nazionale basta fare accesso agli atti e chiedergli alle regioni i dati sulla mortalità e sulle cause di mortalità fondi sul sito dell'Istat sono aggregati per cui le regioni necessariamente ce l'hanno le asole ce l'hanno non spendiamo altri soldi per mettere in piedi un registro che già c'è sì no fondi europei italiani non sappiamo dove sono finiti francamente so che ci sono anche dei fondi europei che il mai compiato Balduzzi ha fatto convogliare sui suoi amici ancora Michele Dio stasera andiamo direttamente da qui al cellulare non questo ma vabbè e vabbè ma questo è sì è vero che le aziende farmaceutiche tendono loro devono fare profitto nessuno criminalizza il profitto sono passati i tempi in cui si faceva queste cose però ci vuole anche un profitto equilibrato diciamo equo e solidale no il discorso che spesso le aziende tendono a favorire lo sviluppo di farmaci più costosi anziché soffermarsi su farmaci che hanno o la patente il patent che sta per scadere gencitabina guarda caso o già scaduta o inesistente il dicloracetato che è una sostanza che si usa per l'acidosi muscolare e che è stata pubblicata su un lavoro di grandissimo rivista importantissima del Cancer Cell da un gruppo di Alberta in Canada e 4-5 anni fa non c'è stato modo di sviluppare il DCA per il tumore del polmone perché a nessuno interessa perché non costa niente lo compri a chili a pochissimi soldi quindi loro tendono vedi tremelibubab o altre cose tendono a sviluppare farmaci costosi che possono avere anche effetti più o meno insomma insignificativi più delle volte estremamente enfatizzati piuttosto che fare ricerca di base loro cosa fanno dicono noi abbiamo competizione allora noi abbiamo questo farmaco questo farmaco sembra che funzioni in questo noi lo proviamo su tutto tutti i cani che arrivano a tiro e vediamo se funziona perché così ovviamente ottimizzano l'investimento perché sviluppare un farmaco costa soldi beh sì c'è tutto un discorso dei paesi del terzo mondo dove vengono utilizzati i farmaci è stato pubblicato non sto beccando dunque è stato pubblicato che ci sono molte case farmaceutiche che vanno nei paesi del terzo mondo sviluppano i farmaci li testano sui locali nelle fasi sperimentali early 1-2 1-2 quant'altro perché costa molto meno e poi li portano nei paesi cosiddetti sviluppati il problema che c'è un trattato non mi dite il nome ma esiste che specificatamente vieta la sperimentazione di farmaci in paesi i quali non si potranno poi permettere quei farmaci una volta sul mercato e fanno così ma lo fanno come l'hanno fatto per i farmaci per i AIDS lo fanno per i farmaci del cancro lo fanno per i farmaci della leucemia questo me l'ha fatto notare un mio amico ematologo che io non lo sapevo mi ha fatto vedere bum 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 e infatti quindi lo si sa qualcuno parlava di patrimonio genetico si si può fare qualcuno biobank in Inghilterra c'è una biobank che tiene il patrimonio genetico di quasi milioni di persone io ribadisco in Inghilterra cioè questa è veramente una di quelle classiche cose centralizzate che necessitano di un sistema che funziona e quindi in Italia secondo me è improponibile visto che solo per il mesotelioma io ho sentito proporre almeno quattro banche di cui una di Balduzzi ovviamente e c'è sempre lui e poi litigavano Casale Monferrato e Alessandria chi dovesse avere la banca che peraltro sono andato a mettere naso perché poi io sono curioso a 35 o 50 al massimo casi fa ridere io ho detto una biobank ce ne vuole una in Europa se lo permette togliamo una ce n'è una negli Stati Uniti da cui ne prendiamo i campioni spesso e ce ne vuole una in Europa lo stesso per la biobank delle popolazioni c'è basta una ma è proprio il classico una classica cosa per cui ci vuole un sistema per cui forget it a me in Italia modelli animali sì a me spiace ammazzare i topi devo dire la verità però però ad esempio il modello che si è sviluppato adesso non ve l'ho fatto vedere però si chiama PDX patient patient derived xenograft sono topini immunodepressi nei cui si ficca dentro il tumore originale del paziente ci vogliono alcuni mesi e costa adesso perché su questo tumore originale del paziente si testano una serie di farmaci si testano una serie di farmaci la capacità di predire la sensibilità nel paziente di questo modello di topo è attorno all'80% non tutti i tumori ed è complicato costa un sacco però noi l'abbiamo anche di Mesotegliau non l'abbiamo noi c'è la Shukat a Vancouver ma gliel'abbiamo fatto fare perché l'espertise di quello no voglio dire c'è un costo beneficio anche a me spiace ammazzare i topi però è il modello più vicino nel momento in cui li mettiamo il tumore del paziente abbiamo un modello vicino cioè dobbiamo purtroppo non prendiamo scimmie non prendiamo hamster non prendiamo certo cani figuriamoci però i topi ahimè sì anche perché a livello scientifico se tu non hai un modello murino e funziona su cellule come vi ho detto prima le cellule sono qualcosa di molto aleatorio se un farmaco funziona su cellule le possibilità che funzioni su un paziente sono non più del 5% 4-5% se hai un modello buono che funzioni anche sul modello animale le possibilità che funzionano nell'uomo sono dati grossolani sul 15% quindi c'è un lo so però questo abbiamo in questo momento ti aiuta insomma ti aiuta a me non piace ma ti aiuta e poi chiuso sulle aziende ci siamo già detti prima sulle aziende farmaceutiche sapete il motto delle case farmaceutiche vita lunga è malatticcia chiudiamo con la parte più istituzionale che cosa si può fare a livello di istituzioni l'Europa sicuramente si può intervenire a livello europeo cosa che facciamo che abbiamo fatto cercando di essere il più vicino possibile ai territori con interrogazioni che appunto per esempio noi qui abbiamo un rappresentante di un gruppo di sindaci contro appunto le discariche per lo smalino del terzo valico sindaci trasversali quindi di liste civiche e anche non e abbiamo cercato di fare quello che si può chiaramente l'Unione Europea risponde dicendo se le cose andasse per esempio per Alessandria quando abbiamo fatto l'interrogazione per le cave non c'è soltanto in realtà non c'è soltanto sezzadio tra le cave per lo smalino ma ci sono anche le cave di Spinetta e di Alessandria abbiamo fatto l'interrogazione effettivamente nella misura in cui si procedesse al deposito dello smalino si incorrerebbe in un'infrazione quindi si potrebbe fare la richiesta di infrazione eccetera ma l'Europa non può intervenire in maniera preventiva perché non è nelle nostre competenze quindi sicuramente quando si violano delle normative europee si è sanzionabili ma l'Unione Europea non interviene sul commissariando o bloccando lavori o cose di questo tipo in questo caso diciamo purtroppo altre volte diremo per fortuna quindi lì il limite è sempre un po' fino a quando tutto sommato siamo contenti che l'Europa non abbia troppa ingerenza a volte invece insomma ci dispiace anche un pochino sul discorso di che cosa possono fare invece si può fare a livello comunale io credo che finché non si è in maggioranza al governo quello che possiamo fare noi così come lo facciamo a livello anche europeo è fare veramente tantissima informazione perché per esempio sul discorso dell'amianto onestamente si parla sempre troppo poco questo è stato un tentativo oggi di portare l'attenzione su un problema che è più complesso nel senso l'amianto nella sua interezza che poi va a colpire tantissime specificità non c'è soltanto Casale giustamente ci sono i problemi dell'edilizia scolastica una delle domande che io non ho fatto è stato se esistono previsioni di incidenza futura cioè se esiste una qualche valutazione con dei numeri con delle previsioni perché abbiamo tutti i figli che vanno a scuola e quindi insomma abbiamo tutti i edifici che si deteriorano sempre di più quindi anche i 4 grammi l'anno sono costanti o ci sono dei picchi sulla base del livello di deterioramento insomma secondo me è un discorso veramente complesso potremmo parlarne per ore di sicuro un problema su cui noi possiamo fare tanta tanta informazione e l'informazione a volte porta a quella consapevolezza che porta le persone a decidere in un caso piuttosto che in un altro che è l'unica arma veramente di cui noi disponiamo è quella di arrivare ad avere dei rappresentanti politici che rappresentino delle persone non degli interessi differenti quindi questo è un po' stiamo parlando tra noi stessi quindi non è che non serve ricordarcelo però è sicuramente la prima cosa che possiamo fare è quella per quel che riguarda l'accesso agli atti io credo che qualunque consigliere sia abbia la facoltà di fare un accesso agli atti laddove non sia possibile non fatevi problemi ricorrete ai portavoci nazionali o anche a noi i portavoci europei che siamo sempre disponibilissimi a fare tutti gli accessi agli atti possibili e poi la via delle denunce quindi quando avete problematiche noi possiamo fare delle interrogazioni le interrogazioni a volte non ha l'effetto di bloccare nulla ma ha un effetto sia di informazione perché da un'interrogazione con una risposta si può arrivare poi a comunicati stampa a un po' di attenzione mediatica su dei temi che comunque porta informazione e quindi noi ne possiamo fare cinque al mese come portavoce europei e siamo ben felici di avere segnalazioni di casi specifici su cui farle l'interrogazione di cui si parlava prima era l'interrogazione alla Camera invece mi sembra loro non hanno obbligo di risposta da noi invece la Commissione ha un obbligo di risposta nell'arco di circa sei settimane lavorative non sempre le risposte sono molto pertinenti a volte dipende anche dal modo in cui facciamo le domande però per lo meno le risposte le dobbiamo avere bene io vi ringrazio per essere stati presenti a questa conferenza è stato sicuramente applausi grazie a tutti